Diamo andare a dò della presenza e del rivamento del あり Werthcher, passare dalla milde da segnali. Di Matteo o Sala, in didemiatura, e dedящa in giuria di 집ho ressentire. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. la legge della parisi che ne vestono i cartelli nell'area quindi non è che sono state nascoste poi senti un cartello ben visibile quello che deve buttare in condizioni quando laura passa il finestrino se da questo facciamo pure i soldi è meglio che non prevenire siamo arrivati in atto per prevenire no no se tu pubbliciti la genere non dà che ci ha spazzato ci ponete le canne mi chiederemo di tre giorni del passato la mia interlocuzione è chiusa la prossima interlocuzione cioè c'era più una musica mello dopo seguire il termine del passato buonasera a tutti grazie presidente la mia interlocuzione la rivolgo al sindaco è un'interlocuzione più che altro che serve a noi ci sono pervenute diverse segnalazioni da parte di cittadini arrivano davanti dove quindi mi sentivo ci sentivamo in dovere con il gruppo scanzato libera porre questa interrogazione quindi il gruppo che rappresento intende chiederle di interessarsi verso gli uffici competenti comunali e regionali ossia ex genio civile al fine di poter appurare se il suo collaboratore ingegner sabato santoro membro della giunta comunale con carico e precisi indato svolge o ha svolto durante il suo mandato attività professionali come ingegnere violando l'articolo 78 del Tuel tutto ciò al fine di poter risipare ogni ragionevole dubbio tenuto conto che ai sottoscritti consiglieri comunali del gruppo scanzato libera sono pervenute diverse segnalazioni verbali da parte di cittadini la presente chiede al segretario comunale inserirla negli atti riportati a verbale a lei il sindaco chiediamo quindi innanzitutto di appurare se tutto ciò che dice la gente insomma non risponde a vero e ci auguriamo sicuramente che non è così anzi sicuramente non è così se ha già notizia in merito e se può delucidarci in questa seduta oppure dopo aver fatto i dovuti accertamenti ci risponderà per iscritto grazie mille allora io ritengo che ho sentito cioè siccome siamo in un contesto consigliare che ho portato il consiglio comunale che francamente io ritengo che se dico dire veramente sia assolutamente insufficiente per portare questioni di tale portato in consiglio comunale anche perché potrebbero coinvolgere poi queste questioni anche altri consiglieri comunali quindi io non posso soltanto dire che l'inferno sabato ha avuto in passato degli incarichi con il comune di Scanzaro ma ha assolutamente determinato che è un certo ogni incarico nel momento in cui ha intrapreso questa carica probabilmente magari inizialmente può portarsi a rete uno o cos'altro tanto è vero che stiamo collerando lo dico anche altre diciamo a meno di noi anche altri incarichi di qualche altro consigliere magari sta svolgendo siccome gli scanzaro perché ci rendiamo conto anche che alla fine del mese il pane a casa la gente lo deve portare non tutti hanno quasi come di essere dipendenti fissi con lo stipendio fisso o con l'aposta o con gli altri e quindi ovviamente i professionisti devono portare quando non fanno del mare quando non approfittano magari per ottenere risultati diciamo che anche è giusto doverà perché da qualche parte noi i professionisti da qualche parte alla fine del mese sono da casa li dobbiamo portare devo dire che è subito ultimamente un corte danno l'ingegner sabato perché voi sentirete insomma il processo che oltre ad avere possibilità di lavorare come professionista sul territorio abbiamo potuto necessità tagliare anche l'identità di carica come dice il nome l'identità significa diciamo riparare il danno il danno il danno che veniva a sostanzializzare il danno si è il danno il danno che veniva proprio la possibilità di svolgere diciamo la la professione ora io ritengo anche che ci sia una questione di carattere diverso adesso la volontà perché questa non è un interrogazione la mia avviso ma piuttosto una segnalazione che potrebbe essere fatta di la presenza ma visto il presidente del consiglio comunale le ha consentito di fare un'interrogazione specifica facendo il nome nome e col nome di un consigliere parleremo anche di proseguire con la presenza che saranno le conseguenze si stanno lavorando di parte personale come se che esistono di un consigliere davanti ai cittadini i consigli i consigli le interagazioni l'interrogazione l'antimo la dovrebbe fare per la consiglia comunale perché lei la è bellissima se vuole mi chiami il fatto personale e gli tolato c'è la possibilità di chiamare il fatto personale voglio voglio solo dire che siccome siete abituati devo dire che abituato proprio il gruppo consigliato di senasano di vita perché agli altri riconosco una un modo di agire differenze veramente differenze violazione dell'articot 34 per esempio ritengo che agli altri riconosco un modo di fare differente e invece riconosco invece un modo di fare che troppe volte è consentito anche da chi vorrebbe inquadrimoso che intende ma ormai abbiamo capito cioè si va sempre solo in una direzione lo dico perché non c'è messo di spirito ma comunque quando poi si lancia la pietra si lancia il sasso si crea il sospetto è sempre una cosa tutta siccome gli altri riconosco invece una competenza diversa è volevo soltanto fare questo di stimo fermo al Stato che alla fine del Consiglio in Reggio ci sono state operazioni regolamentali tali da mettere diciamo in poca al Paese come siete abituati a fare una persona senza che abbia fatto tutto e quindi ci rivolgiamo le conseguenze e vedremo un attimino riprendere dei procedimenti vedete noi quando veniamo a sapere delle cose anche tra le gravissime che mettono a rischio addirittura il posto di lavoro ci riprendiamo mille volte prima di fare dei passi ma visto che considerate che poi bisogna in qualche modo reagire anche a degli attacchi che non hanno senso che nulla hanno di politico queste cose non hanno niente vorrà dire che non avremo un problema perché se dovremo segnalare alcune cose e magari mi interaggiano e mi dispiace non lo faremo basta posso consigliare che si è soddisfatto non lo ne ho soddisfatto ho richiamato l'applicazione scusate non lo rispondo non lo è fatto personale non lo ecco scusate allora il fatto di voler chiarire ai cittadini che ci fanno segnalazioni penso che sia il nostro dovere di amministratore il fatto che lei continui sindaco ad insinuare minacce velate utilizzate principalmente perché abbiamo un posto di lavoro le volevo semplicemente dire che il posto di lavoro che abbiamo ce lo siamo guadagnati studiati e di sicuro fare l'amministratore con le lauree di matrimonio se deve portarsi a casa lo stipendio da professionista ha sicuramente altri territori dove poter operare la mia è una semplice segnalazione non vuole essere un'accusa e penso che l'ho specificato perché continuano a pervenire segnalazioni da ogni gruppe quindi penso che il dovere di un consigliere comunale sia quello di poter manifestare nell'assise comunale diciamo che è dove si usilavano i panni sporchi qui l'ho semplicemente fatto le ho chiesto di fare delle verifiche tutto qua e se era conoscenza di qualche progetto lo poteva dire se è così non è per noi siamo ben felici e qua mi sembra che chi sta insinuando e buttando il banco sul gruppo scanzamoli per il proprio l'esito continuamente lo fa perché noi stiamo facendo semplicemente il nostro dovere d'amministratore siccome queste segnalazioni vi c'erano sempre dietro se cittadini ora queste segnalazioni considerate di calunnia è un reato penalico consigliere a me allora direte chi è questo cittadino perché poi riportate una calunnia e renderla amplificata è un reato anche troppo tu pensi che ho amplificato una calunnia ho chiesto delle verificazioni sindaco e le ripeto che è nel mio dovere di amministratore ok lei continua a fare le minacce di denunce tanto lei è abituata a fare le minacce e continua no no le denunce passano da diversi minacce ok sindaco quindi inutile di fissarli sempre in atto devi semplicemente prese il reato di queste segnalazioni anche per poter tranquillizzare di bene il suo vice sindaco tutto quanto domanda Presidente e conformare con le posizioni di relazioni per cosa articolo per la parte regolare i consiglieri possono presentare interrogazioni interpellate e nozioni su argomenti che interessano unicamente la vita e l'attività del comune lei fa parte del comune io quando sono in comune faccio parte della vita credo che nessuno manderemo un pochino alto allora quindi è conforme anche venire qui e dire che i presidenti fanno politica sul proprio loro posto di lavoro e tanto cittadini che vengono di cittadini si viene parte la politica degli uffici comunali e in cittadini senza incontrare il signor Presidente non è un'altra professore non è un'altra professore sono di quali grado la professore è chiara la domanda buona sera volevo chiedere all'assessore Sisto a che punto è la situazione del Presidente dello Sordo dobbiamo pubblicamente fare un bando in questo momento c'è una situazione più importante da mettere a posto una delle tante e le situazioni anziani stiamo lavorando con gli uffici dei nostri con i genetimi abbiamo portato abbiamo bisogno di tutto il tempo ma è stato di sequestra assolutamente sì io mi auguro di abbreviare questi tempi lunghi anche per poi ricordare che è sistemato o non che è sistemato proprio però se questi sono i vostri mangi non si sono partiti di spesso e ci sono proprio dei tempi dei tempi lungo tragi comunque cercate a dire che è nello stesso che ha maggior ragione del mio interesse che è stato di spesso ecco come posso se avete posso iniziare a vedere in 18 e 25 come se mi segnalo la casa ma ci avete trovato in 18 e 20 dice in 18 e 20 la ferma mi ha parlato con i versati in 18 e 20 e ce ne vogliamo già andare ce ne andiamo chiedo come si può perché si studia ecco lo so ci ha avuto San Dico Volevo rivolgere un'enegrazione al Sintra siccome non sono più privato a fare politica su Facebook quindi ciò che scrivo quello che voglio portare anche il Consiglio Comunale volevo chiedere in riferimento agli due incarichi dati da questa amministrazione che scrivo me legale e legale volevo conoscere quali sono stati i criteri adottabili per la tua assegnazione allora innanzitutto non si tratta di un legale ma si tratta di un componente unico della commissione disciplinare e del regolato di presidenza e meglio ora che siamo avvocati e di un geometra che francamente insomma alla sfortuna di avere il stesso cognome che non è un parente tali in cui io non ho parenti di questo lo voglio dire se è quello il dubbio lo sfogheranno immediatamente ora sulla nomina del geometra io non lo so perché sono uffici che si occupano delle nomine come il giusto che sia e quindi presumo che ha il criterio di cercare una professionalità che hanno ritrovato questo regolino o omimo per quanto si tratta invece il regalo non è la nomina di un regalo noi ad oggi abbiamo soltanto come nomine di regalo dato incarichi confermando chi era nominato in primo caso perché ci sono stati degli appelli nel frattempo che ci sono di da di ora ma nuove cause nuovi incarichi non ne abbiamo affidato se non proprio in questi giorni uno che servirà diciamo a breve che è stato affidato ad un regalo ad un avvocato locale per quanto riguarda invece se dirige all'avvocato la nomina dell'avvocato attuale o monente della commissione disciplinare la scelta è ricaduta sull'avvocato di piedi di poliforo per un motivo molto semplice è stato affidato un avvocato scanzanese prima però abbiamo rilevato a seguito delle commissioni di questo locale che anche gli altri molto spesso purtroppo trattandosi di commissione disciplinare che deve occuparsi eventualmente di problemi di compagni di poter dire di veramente ci sia la necessità e non giudicare di una siccome il paese è quello che sova molte volte ci siamo resi conto che nomi di X e poi la prendeva anche lontano quello del settore amministrativo nomi di Y e poi la prendeva del settore tecnico quindi abbiamo notato questa difficoltà consultando un paio di persone che tra amici e parenti si trovava una difficoltà estremamente in quella commissione disciplinare che ci hanno sempre dovuto applicare diciamo per i provvedimenti per cui abbiamo rivolto lo sguardo poco da e ci siamo un piloti con l'incorso abbiamo scelto un avvocato che farà un avvocato da 25 anni siccome è un interno fiduciario io lo conosco e quindi mi fido ciecamente del suo operato è di fuori che quindi non ha problemi di questo genere e aggiungiamoci come è la caratteristica che è anche il consigliere comunale quindi capisce anche dalla sbaglia di altro capisce anche di far termini di il tutto ci tengo a sottolinearlo al costo per il comune perché la commissione è necessaria non è che l'abbiamo resa diciamo un componente unico per pagare di meno costo di 80 euro a mese circa quindi costo 80 euro a mese il membro della commissione è unico e in sostanza che è la figura della donna di caratteristica e ho detto anche il perché insomma abbiamo ripetuto di nominare ma non è unitario con i dati in caratteristica fino a prima ora sono rimasti e abbiamo confermato i due o tre avvocati che avevano difeso per il futuro in primo grado con altre persone di attenti che non confermanno correttamente non vedo perché ne sono sostituiti e ben andiamo vedendo per una volta nominando un solo da un solo incarico nuovo noi diciamo all'ufficio costituiamoci è ovvio che all'ufficio lo diciamo spassionatamente cerchiamo sempre di indirizzare che viene infatti in modo che rimanga in caratteristica territorio ma è l'ufficio che è all'indicato noi siccome sappiamo le nostre conferenze diciamo che è il caso di costituirsi in questa vicenda per cui è l'ufficio che termina di autonomamente il nome dell'avvocato e si vada a prestituire il reglizio punto io spero che per i prossimi anni si faccia un altro professore Ispiti Scalzano e si faccia l'azione o una cosa del genere in modo che i professori Ispiti Scalzano possano portare a lavorare negli anni io mi sento il dovere di dirti un'altra cosa è vero quello che ci tu rigoli non è mio parente non è mica che sia così stupido da fare questo però informandoci vede forse lavori in uno studio di qualche parente voglio dire solo questo io dico questo poi mi informerò per me adesso voglio io di nominare non lo devo fare un'altra cosa allora sul lato di senatore il presidente non lo 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 ti ricordo però lo ribadisco ancora l'altro non è possibile istituire una luce riservata solo ai professionisti di scala non è possibile quando fai un avviso pubblico ci si vengono a iscrivere nel cosiddetto list dei professionisti di tutto di più c'è gente anche di Milano io non ho anche la presenza di qualche amministratore di e quindi se sto per dire una cavolata a poi ora è successo questo qualche anno fa fu istituito una luce ci si sono iscritti per esempio per gli avvocati anche avvocati di Polonia di Milano di parte la pesca e non glielo puoi impedire questo che cosa ha comportato bisognava in qualche modo interpellare nella votazione cioè se il primo nominativo era l'avvocato di Milano tua amministrazione comunale dovevi costituire il giudizio dovevi interpellare quell'avvocato di Milano l'avvocato di Milano dovrebbe che ha fatto un setto da porto soldi sinistretto stradale ti rispondeva però con dei tempi ovviamente tu prima andava la proposta risponde non sono interessato perché rinunciava di Milano se invece c'era la cosa rossa da milioni di euro me ne viene vendita una di un po' altro da un po' allora quell'ingarico lo accettava sostanzialmente questo che cosa ha comportato di fatto in alcuni casi che per interpretare le forze professionistiche che scuola che vengono la lista in alcuni casi ricordo sotto la giunta di oggi fu un caso in cui non riuscivano di questionirsi perché tutti volevano interpellare era una rompezza del serino ma tutti volevano interpellare che aiutavano perché era propria microesserie ma erano costretti per rispetto dell'autoristica di interpretare a questa fantasia scritta sul tasco che non sono le proprie di gioco che non sono riusciti a costruire ora per evitare questo diciamo che degli altri degli eletti non è che li stiamo mandati a New York o a New York quindi erano a scanzare quindi meno male i professionisti di scanzare si conoscono è chiaro che quando una professionalità non ce l'hai uno specialista non ce l'hai sul territorio allora ti devi guardare attorno affinché le professionalità che possono trovare il nostro ma se l'abbiamo c'è il territorio noi abbiamo pregato gli stricci che sono quelli che potano per terminarsi di afferarmi anche su questo che possiamo fare come intervizio e questo è tutto ok è terminata la mezz'ora dell'interoversione passiamo alla di subizione e della giornata giornata prima puntata giornata giornata piano finanziario del servizio dicesimo del diritto anno relazione il vice sindaco allora come ogni anno abbiamo approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani quest'anno ci aggiungiamo data approvata il piano di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018 il quale piano ha lo scopo di individuare quali sono i costi per la raccolta il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti i soldi urbani e i interiamenti assimilati urbani assimilati non vengono tra questi i rifiuti speciali per l'individuazione dei costi del per il piano dei rifiuti che questo anno vengono individuati vengono valutati presa di crema di costi dell'anno precedente che è l'anno 2017 e di questo vengono individuati i vari costi che sono i costi fissi i costi fissi del servizio la suddizione dei costi tra fissi e variabili ripartizione dei costi fissi e variabili dei soldi ai soldi di usaggi alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche calco delle voce tariffari fissi e variabili da seguire la singola categoria precedente in base alle forme che sono indicati per me quindi come detto il piano finanziario viene lavorato tenendo conto dei costi sostenuti un anno precedente appostando gli opportuni atteguamenti relativi agli incrementi vari dei prezzi di che cosa non il servizio di raccolta perché il servizio di raccolta nel anno precedente è stato comunque confermato e ottenuto da quello del contratto che è uguale per tutti gli ultimi anni quello che è pagato è il prezzo del dono di venti che ha raggiunto i 215 euro per connervate per il costo del servizio secondo quando previsto il contratto a quello che dicevamo è rimasto costante i costi interiore del dono tariffario sono articolati nelle seguenti macro categorie che sono i costi operativi di gestione i costi comuni e il costo bus del capitale i costi operativi di gestione comprendono costi dello spazzamento lavaggio strade e piazze pubbliche costi di raccolta e trasporto raddittura sono indifferenziati costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti altri costi in sostanza il costo generale di trattamento in riguardo alla somma di tutti questi costi per quanto riguarda la trasporto a questi danni differenziati c'è anche la gestione per la raccolta differenziati che per quanto limitata nell'attuale gestione è comunque un po' strano generale che si suddividi nel costo di raccolta per quanto riguarda i soldi urbani differenziati e il costo per il trattamento di ciclo di soldi urbani quest'anno ci atteniamo ci siamo attenuti allo servizio nell'individuazione ci siamo attenuti a servizio come per l'anno precedente cioè per il tipo di raccolta che c'è stato l'anno precedente ma sapete benissimo che in procinto di essere contattualizzati un nuovo appalto che ci vedrà finalmente passare come l'obbligo di lei il centro di ricordo che viene da lontano dal 2012 passiamo a rapporto differenziale gli altri costi per la determinazione del costo complessivo sono i costi comuni ossia i costi amministrativi per l'accertamento e la distorsione del contenzioso e poi i costi in generale di gestione oltre a questi c'è il posto di uso del capitale che sono il posto che viene riportato dall'epoca del anno del anno del del capitale investito detto ciò però queste sono le varie voci tecniche che hanno portato che portano all'individuazione dell'importo complessivo che è quello che deve essere tradotto in tariffa e che è quello che ha un terremoto successivo quindi in merito si evidenzia che i costi relativi alla gestione dei servizi sono stati forniti dal soggetto gestore già detto come risulta dal piano finanziario innanzi richiamato e a cui segreti è per ogni un'utilata fondamentale l'importo dei costi amministratori dell'accertamento della distorsione del contentino si è stato forniti invece dall'ufficio gestione risorse finanziarie il posto in fine relativo al trattamento di un ottimento fiscale che è stato determinato dall'ufficio tenendo conto di quello che è il conferimento di discarica che avviene presso la discarica di cui è la disposizione della provincia della terra che è la discarica del comune di Colofrago oltre alla ai particolari risulti che vengono conferiti negli mesi estivi che sono probabilmente del dubito che vengono conferiti alla vita e all'ambiente dalla tabella legata al piano finanziario si possono essere analisi tutti questi posti il cui importo complessivo ci porta a un valore quindi è un posto complessivo anno di 1.891.035.000 che è un posto ci tengo a sottolineare inferiore per i motivi di cui già c'è nato il sindaco prima inferiore di 63.000 che è proprio per l'anno precedente quindi per l'anno 2017 con l'azione di controllo del territorio con la dedizione degli amministratori l'attenzione al territorio la dedizione degli uffici il controllo e tutto e quant'altro messo insieme siamo riusciti a contenere il di 63.000 euro il contenimento di scarica questo ha permesso nella rifa di successiva determinazione un abbattimento dei dei costi per i cittadini dei costi per i cittadini della tassa sui rifiuti detto questo il il consiglio è invitato a portare il piano tariffario proposto dall'ufficio tecnico adottato dalla giunta condonata a portare la tassa faccio la stessa domanda e non riesco a capire perché nonostante tutta la sorta differenziata non viene effettuata continuano a pagarla sia per quanto riguarda l'anno di della cassa che ho pagata e la rivela che avendo riportata a me per questo l'anno e consumare per i primi primi ma vogliamo aiutarsi una raccorta per i primi per i primi per i primi per i primi interventi se non distiniamo più il risultato di interazione puoi mettere le persone continui sta discutendo in Puma ha delle vere che si tratta hai una scusa di chiedere per le affermazioni dovrebbe fare delle dichiarazioni ma anche in questo non c'è ma io non capisco una cosa non posso dire faccio un po' di conclusione rispondo c'è la discussione la relazione c'è la discussione la relazione di voto la dichiarazione di voto e la votazione quindi siamo nella fase di discussione qua ci sarà la dichiarazione di voto dichiarazione di voto il voto e il quale è la discussione siamo nella fase di discussione purché sia il primo e gli hanno finanziato prego faccio un po' di domande allora adesso qua c'è la diversità si chiedeva di passare se siete per chiedere il tema ma se ci sa chiedendo un uomo vogliamo capire grazie grazie e basta sono messi a disposizione allora perché per gestione per gestione per gestione se si faccia le commissioni così con le commissioni si riesce a gestione di più tutto all'ordine di più ecco ecco prego prego per la seconda volta siamo chiamati in questa stizia ad approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei frutti umani e per la seconda volta ci troviamo di fronte ad un piano che a nostro avviso parlo a noi e del gruppo scanzano risulta per certi aspetti inadeguato in quanto non rispetta la realtà perché ci sono sicuramente delle lacune che vado ad evidenziare quelle che ha già evidenziato la consigliera dell'Afghanist quindi le vado ad evidenziare sia i consiglieri di maggioranza che di minoranza innanzitutto dobbiamo portare alla vostra attenzione di come il piano finanziario di servizio di gestione dei rifiuti che ci accingiamo a votare presenta per l'ennesima volta costi a carico dei cittadini per servizi non erogati per il secondo anno consecutivo e precisamente da quando l'amministrazione ricordi si è inserciata si prevedono posti gravanti sull'intera comunità per un servizio raccolta effettuato a singhiozzo e certamente non differenziato come la vogliamo chiamare questa lacuna la chiamiamo sdista poste o disattenzione ci chiedete di votare quindi questo piano dove vengono riportati costi operativi di gestione per i servizi erogati dalla ditta tra l'eco che prevedono nello specifico anche come ha detto l'assessore Sano il vice signato costi per lo spazzamento e lavaggio strade e piazze per un totale di 144.000 euro nonché i costi per una differenziata di 105.000 euro quindi possiamo dire che a carico dei cittadini un anno costo di 250.000 euro per un servizio che non viene erogato io voglio chiedere a voi amministratori se negli ultimi due anni qualcuno di voi ha visto lavare i cassonetti le strade le piazze o per caso qualcuno di voi visto che magari a me e ai cittadini dei quali rappresento può essere succedo che si effettuava insomma la rapporta differenzata di vetro camina plastica che possa giustificare questo posto che grava sui cittadini con l'aggravante che mentre in passato almeno i cassonetti dedicati della rapporta vetro che c'erano dal nostro insediamento sono stati anche quelli trasformati in cassonetti gerenici noi non possiamo tacere sulla mancata gestione delle finanze comunali dalla quale viene fuori la scarsa gestione politica di questa amministrazione secondo noi un servizio che non viene erogato dovrebbe essere stragiato sollevato da questo onere della popolazione successivamente vi potete rivalere sulla ditta formicrice del servizio e quest'opera sapete come si chiama attenzione verso i cittadini e odulatezza e salvaguardia delle casse comunali i cittadini nella tale pagano servizi che non sono stati erogati ma tutt'oggi vengono riproposti senza rendere più vivide non si effettua la differenziata non si provvede alla pulizia delle strade lasciando i paesi per giorni nella scorcizia come è accaduto diverse volte e non da meno in occasione dei mercati di insipi provate a chiedere a quelli della zona 167 se effettuano lo spazzamento delle strade e riproponiamo nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2018 le spese mutate per questo servizio senza provvedere alla riduzione per gli anni in cui non si è fornito il servizio io vi chiedo se siete stati se siete stati così celeri nell'effettuare uno sgrado alla vita tradito per la mancata per la punizia delle spiagge e avete poi affidato ad altra vita come mai non riservate la stessa celerità e la funzione tutelando i cittadini sgravandoli di un costo per un servizio che non ricevono e che consumirete così il ripasso del costo al loro carico sicuramente sarebbe un costo tangibile e concreto e non come quello che si vuole far credere buttando fuori negli occhi con l'abbassamento di 2 centesimi a tariffa naturalmente siete l'amministrazione bambino con i piccoli perché quando si tratta dei grandi siete i cieli e lo dimostrate continuamente anche nelle questioni dove ben sapete usare i punti con i deboli e al contrario sapete essere magnani con i forti assedati di tazze da far pagare così come è avvenuto il regalo natalizio che avete fatto ai cittadini nel deviare le cartelle pazze a rilosso del periodo natalizio la maggior parte è che i dati sindaco si sono rivelati inesicibili in quanto da verifiche effettuate dai cittadini che sono andati autotutena non dovute dall'ente e per fortuna in regala della tutta mio padre l'annullamento della cartella quindi come mio padre ne sono arrivati centinaia di cartelle pazze allora è vero che bisogna fare gli accettamenti perché costiamo perché inseriamo le cifre in bilancio però è più vero che il servizio va gestito diversamente va pianificato ok quindi non si devono inviare 1200 cartelle tutta una volta ridosso nel periodo di natale queste sono le tematiche da affrontare questi sono i problemi da portare in tribunale sindaco pur di difendere gli interessi dei cittadini e dell'ente qui ci vogliono le famose e facili denunce tanto care a questa amministrazione quindi difendete gli interessi dei cittadini a tanto addossato la colpa all'ex sindaco diaco Benetis sia quando era tra i banchi della minoranza che in altre occasioni quando era capo di questa amministrazione quando era capo di questa amministrazione scusami si tiene a terra no se c'è che il mario ho avuto tutto no è sempre nel tema di rifiuti io sto parlando ti sto facendo confusare riguardo il tema ma il tema di finanziare riguardo il tema questo è il tema no il tema è questo cioè il tema è che si dovevano individuare le dedizioni ok per un servizio non evogato quindi quello che stavo dicendo bisognava quindi applicare delle sanzioni alla vita tradetto per il servizio resa da quest'ultimo e adesso chi lei dovrebbe dare indicazione al giustizio così come prova a farle per altre situazioni sull'applicazione delle sanzioni dell'abito tradetto visto il permanente del servizio invece lei sotto questo punto di vista è immobile naturalmente con i grandi perché se poi al posto della tradetto ci fossero stati altri dimostrate quindi di saper gestire per il bene dei cittadini senza canire dei controlli dei piccoli consuliquenti sapendo dimostrate sapendo recuperare soprattutto dai grossi evasori mostrate la vostra abilità nel recupero per il bene di tutti delle passe non pagate dalle grosse aziende per poter finalmente abbassare in modo tangibile le salite io non so se voi avete conflutezza del totale debito che hanno le grosse aziende nei confronti dell'ente e non so neanche sindaco visto che a me non era dato sapere quando il compito il conto è assessore e non so neanche se avete messo in campo azioni documentate però che è mancato in foglia questa amministrazione che ormai non è da due anni come ha manifestato la sua volontà politica e quali atti di indirizzo ha dato agli uffici per poter intraprendere un risposto serio un percorso documentato e concreto volta a recuperare le tessere il tema scusami presidente che lo scusa qua parliamo di abbassare le tarifiche abbiamo appena mito di dire che abbiamo abbassato le tarifiche no no la c'è per luce sì ma parliamo di abbassare i costi e allora io sto dicendo che per abbassare i costi presidente bisogna recuperare le somme dai costi evasori e non dai piccoli anche dai piccoli ma soprattutto dai grossi e quindi non è stato fatto nulla io non ho trovato nulla nessuna lettera inviata alle costi aziende ok neanche in via buonaria per chiamarli qua e definire e chiedermi di effettuare il pagamento lei ci ha dato molte lezioni teoriche sindaco lezioni universitarie nella pratica però abbiamo constatato che a questo percorso pratico non è eseguito nulla di pratico quindi voglio ricordare a questa amministrazione che alle quali devono inseguire i fatti per il beneficio di tutti i cittadini perché solo riscuotendo e combattendo le evasioni si abbattono i costi la differenziata fa sicuramente il suo percorso ma quello che combatte l'elevazione è sicuramente uno dei punti principali e questa amministrazione non sta facendo niente tranne che mandare cartelle e pazze ai dittori contribuenti naturalmente avete così tanto sannato quindi speriamo che finalmente abitiamo il campo all'avvio insomma di questo di questo inizio della differenza speriamo che sia avvito finalmente ad una conclusione in modo tale che possiamo abbattere anche i costi raggiungendo percentuali di differenza di altri e noi decideremo come gruppo di scanzare un'imera affinché vengano afficate le dovute sanzioni per il mandato servizio per poter rappresentare in modo trasparente l'interesse dei cittadini quindi il sindaco si attivi per far applicare le sanzioni per un servizio che non viene erogato ci sono altri interventi allora io vorrei delle delucitazioni perché nessuno mi ha risposto a me leggo la prima parte per quanto riguarda il primo aspetto per quanto riguarda il primo aspetto appare evidente che la minuzione dei costi è stanzialmente proprio là alla capacità di rifiuti il quantitativo di rifiuti da comprensione ora poi letto il piano finanziario per l'anno 18 viene elaborato partendo dai costi sostenuti nel precedente anno ora io voglio sottolineare una desuscitazione per quanto riguarda il costo di conferimento di scala che sono circa 700 o 3 ora se l'obiettivo è quello di il conferimento di scala e visto che il piano finanziario prevede un contratto validamente chiuso se volete riduciare ancora di più con questo quanto cioè però il prezzo stabilito per conferimento di scarica rimane sempre 780 milioni non si andrà a tassare gradualmente questa quindi rimane standard come prezzo io questo è un'opera di scarica compresa dall'appart si ho capito ma se ne convenhavo di me non mi scarica perché io devo pagare sempre 780 milioni io questo non ho capito ci sono altri per me ok risponde non è che devi pagare le risposte che non sono in me la risposta di voi se ha fatto un discorso o ha chiesto una domanda cioè vuole rispondere rispondere non è che sto qua che rispondi la risposta la risposta la risposta la domenica è abbastanza chiesto una raccolta differenziale di fatto non è che ti assente completamente in questa gestione la raccolta differenziale c'è la raccolta dei calcoli che rappresenta un discorso ma rappresenta qualcosa anche la plastica c'è qualcosa che arriva al cinto il largo di un sistema che non c'è non ha capito ma quindi il largo di un o quindi se guardi sul piano finanziario scusami guardi la raccolta di differenziale ha un posto per la raccolta di 61 mila euro mentre costo rafforzato di 61 mila euro costo di rafforzato di riscarga 785 mila euro quindi sono 800 mila euro circa che sono i costi di quelli che produciamo per la ricombinia e per il invece la differenza è molto di meno 44 mila euro quindi quello è riferito quando tu chiedesti se non ho capito male perché paghiamo la differenziale se non c'è 100 ed è quantificata sulla base di fatture perché cosa è notato le fatture c'è la differenziale fatture per il cartone fatture si mettono in giro questi dati e si chiedono poi questi numeri ovvio che una volta che si passa a differenziale il cartone verrà un appamento il cosimo che è un appamento sulla fase del nuovo contratto che prevede se vogliamo rispondere pure a un sicuro cioè le osservazioni che faceva Antonello che la discarica con un un appauto sarà compresa nella dell'appauto noi faremo esclusivamente la ditta e la ditta provvederà a fare la ricotta differenziale se non ho capito male come questa è quella di dire perché se il richiuto di dignità ci sarà un abbrattimento del richiuto perché poi perché sappiamo sempre se noi facciamo il momento del conferimento della quantità di di conferimento fiscale perché il costo è comunque sesso costo la risposta è perché aumentano i costi di gestione dei servizi in che senso se oggi la raccolta passa una volta a settimana perché raccolta di differenziale prendi il cassonetto di 5 minuti domani il giro non durerà 5 minuti ma durerà un'ora perché in quella zona in quell'area verrà fatto un porta a porta quindi anziché un cassonetto che serve per prendi famiglia verranno raccolti 26 cheri di differenziale il giorno dopo verranno raccolti 20 se ci sono di rubino se ce ne sono 10 ne raccoglieranno 10 al giorno successivo raccoglieranno la pasta quindi aumenta il costo di gestione diminuendo la quantità per l'area quindi indico insomma le cose avremo comunque un costo in te lo visto come andranno a parte il problema che ci consente di riappare la tariffa di somme ancora più sostanziose di quelle che sono state evidenziate di quelle che sono state ricavate quest'anno ci è piaciuto i 50 milioni dopodiché non mi sento di dire altro su altre situazioni perché si sente dire che per abbattere i costi bisogna recuperare le evasioni le evasioni sono residui bantattivi i costi sono altra cosa se qualcuno non ha pagato negli anni precedenti credo che pagano dei desigli antivi se qualcuno quest'anno io devo raccogli devo spammare su tutti i cittadini indipendentemente se poi la pagheranno o posso sapere anche io se non mi parla se poi la pagheranno si 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 per chi lo vuole ascoltare poi dopodiché non ho ancora la discussione nient'altro per quanto ripartano le cartelle pazze lo andiamo a spettare ma 1200 cartelle pazze quanto si ne sono le pazzesco lo diciamo la finanza va bene si possono evitare anche che non possiamo dire i cittadini che vengono tutti i giorni a chiedere le cartelle pazze quindi vi aspetteranno la distinzione del punto e sapranno esattamente fate attenzione quanti sono delle 1200 quanti saranno effettivamente quelle pazze o quelle semi pazze o quelle completamente normali quindi vi lascio con i punti non ha risposto però al fatto prego come mai non avete per quattro di diffusione alla Tadeco come mai non avete per quattro di diffusione alla Tadeco per un servizio che a cittadini non viene erogato non mi sta rispondendo su questo punto importante no prego allora chi è che deve applicare la tributazione della vita la politica o gli uffici gli uffici i uffici ci fanno un cuore il doppio che gli uffici politico e gli uffici gli uffici allora ti ho fatto una domanda di rispondere di segnare le idee l'indirizzo politico non viene la rete come non scusate 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 l'indirizzo politico lo dà il politico e gli uffici si occupano dell'indirizzo che vocano a sé da voi che siete la politica che sono non capiti se voi non ha i dirizi non lo capisco che ci sa da fare sicuramente se non date neanche dirizi politici per questo non lo riesco a capire allora tu non sai neanche questa di casa politica non sai neanche la differenza tra l'indirizzo politico e la valutazione del contratto perché te lo dico perché gli uffici gestiscono i servizi e devono fare applicare il contratto non sarebbe bravissimo se gli dicessi io all'ufficio applica o non applicare la sanzione ma tu questa distinzione non l'hai mai capita tant'è vero che ci hai messo stesse difficoltà anche quando state è stato detto all'ufficio più volte di fare di far applicare il contratto che è cosa ben diversa dal dire applicare le sanzioni è successo in occasione della polizia della scaccia è stata punita la scaccia che è stata sostituita la ditta tra te e la vendiera con altra linea ora tutti questi disservizi che si manifestano nel territorio vengono puntualmente segnamati dall'assessore che questo lo dimentica perché lo scrive poi l'applicazione delle sanzioni poca torna a riparire all'ufficio tecnico in questo caso fino ad oggi parla del responsabile che significa ingegnero proprio Luigi di Chio quindi si segnale che sono gli occhi di tutti e di servizi quindi l'ingegnero dovrebbe applicare le sanzioni ora è diverso perché tu fai un pastrocco che non si capisce niente mi risponde una domanda che è stata sostituita la ditta per la polizia della scala allora per sostituire la ditta che non accoglie di tutti quando diventa un problema in genitolo sanitario mi sai dire che l'ho fatta? hai appena detto che non c'è non c'è non c'è non c'è hai appena detto che noi andiamo per un 15 casi di diritto che è con lei che sindaco che è che sindaco deve sovrindendere l'unifici forse mi risponde non sai non c'è in grado di rispondere in grado di rispondere in grado di rispondere a andare un'altra in grado di rispondere a mi è a andare di in grado di rispondere solo non è più un'unificio il suo è la nostra città Non faccio le domande, se te la posso fare pure io, è pietato, sono alcuna come fa. Di solito le domande le fa una violenza, la faccio un anno di storico. Ah, che cosa, così. Certo, che cosa, che c'è. Ti potete dire che cosa succede, che cosa devo fare, lo sai, lo sai. No, lo sentite, non lo so, le sto dicendo che la politica è realizzata, sono iniziato a dare più uffici. Il consigliere Merro sta parlando di consigliere Sanna. No, sono una felice d'azione, quello che non ho capito, le 48.000 euro in cui 61% di costo del personale è la spesa, sicuramente, adesso, i villaggi, i cittadini, però, ma, cioè, è la spesa complessiva della proposta di Prensia, 105.000 euro. Diciamo che è una ripartizione, e io lo faccio 50% per il Prensia. ha scritto come se 120.000 euro di costo per la raccolta, l'aumentare 60.000 hanno scritto che sono per l'indifferenziale, e 60.000 sono per il differenziale. Non è così, di cui c'è da calcolare, se hanno speso 100 per l'indifferenziale, 20, alla fine, 100-120.000 fa, questo è l'adattamento che hanno fatto. E quindi, quello che è il geritto di 60.000 sono quelli di costo per il personale, in pratica, che hanno ripartito in quella maniera, diciamo, un po' tensionale. Ok, ma i 49.000, i 49.000, sono, è tutta la spesa per l'arco più inferenziale, per la vita, per i soldi, per tutto il territorio comunale. Per questo non vi è chiaro. Cioè, se noi prevediamo che spendiamo 44 mila euro, mi racconto le differenze, a volte non viene fatta, ma viene fatta solo da poco. Non è fatto, perché come si viene fatta? Non viene fatta dai cittadini in paese, perché non viene fatta, però c'è un grosso qualitativo, ovviamente villaggia, tornando a un discorso di il terreno, ma stanno pagando, stanno pagando quello che vuoi spagare. Ci sono mille attività fanno, se proprio in Lugno scoppiano le cette, e quindi siamo costretti a smaltire, diciamo, quello che qui incide molto, perché là, questa, c'è un altro paese, questo non lo tra l'altro qui su, là sotto c'è un altro paese, e i problemi nascono sovente, però è anche vero che il gruppo, invece, la differenza, questa differenza è la loro. Dururrà poco, allora, questo stato di cose, e direi di più, questo tema finanziato, ovviamente, ma riguarda anche un periodo di transizione, che noi ci occupiamo di partire, pure a breve, con la normanza, finendo il periodo del partimento, se non ci sono ricordi, a un'altra parte del predittore, non partiremo in un periodo. E' chiaro che ne abbiamo, un po' di rimettere adesso in previsore, perché è un formone certo, diciamo, ma se si è in periodo del partimento, si può carattualizzare, cambiano le norme, cambiano gli accordi, perché questo non lo ricorda nessuno, che c'erano degli accordi particolari, anche con la partimento, e questo lo diciamo, e lo ricordiamo, veramente, una volta che abbiamo detto, prendiamo il paquetto e mangiamo, e abbiamo sempre sovrasseduto, perché probabilmente, insomma, ci sarebbero stati i risultati naturali, perché noi siamo arrivati a questa situazione, pregressa, l'abbiamo provato, e l'abbiamo provato anche con degli accordi particolari, tra amministrazione comunale e interradentale, quindi abbiamo dovuto operare, e ancora oggi, facciamo, entro e pareti di quegli accordi, ma non lo dobbiamo incontrare. Adesso che sarà sottoscritto il nuovo contratto, da quel momento, quando si sottoscritto il contratto, con il BAF, diciamo, dall'obbligo dell'uno, dell'altro, nel momento in cui sarà sottoscritto il contratto, partiremo con la differenza, in questo piano, oggi, non lo trovi, e ancora con il Stato sottoscritto, è chiaro che lo faremo, però, essendoci attori di cui il partner, perché bisogna far sentare. Quindi, questo piano, ci ha messo a vedere tanto, ecco, per questo, però, sulla scorta, che voglia essere il servizio dell'anno scorso, che dovrebbe replicarsi, sostanzialmente, quest'anno, che poi il servizio, in molti casi, abbia dei grandi difetti, che vengono segnalate, intorno alle famiglie, vengono segnalate più forte, le linee di albimenti, però, per arrivare a chiamare un'altra ditta, siccome è successo, che se la sono cavata così, l'ultima volta, perché alle 12, mi scrisse, cosa assolutamente necessaria, perché, se devo chiamare un'altra ditta, in questo caso, la devo chiamare lei, però c'è 150 minuti, ogni vincolo, ma non è che si, che si alza la mattina, e sostituisce la ditta così, mi chiamarono dei cittadini, e mi chiamano i carabinesi, fate bene, mi risposto, ma ci sta prendendo il giro, no, fate bene davvero, perché più mettere carne a cuocere, e per me è meglio, nel senso, io, per poter fare un procedimento del genere, attenzione, mi deve segnalare, l'autorità sanità, mi deve fare una relazione, e in quel caso, tengo una nota, del dottor C, tra le 12 e 35, l'orto quando hanno ripreso, la raccoglie da una mezzoletta, una mezzoletta scarsa, da Santa Susi, ci sono i testimoni, quindi se a me non mi arriva la frase, la segnalazione, non è mai più grande, quindi non è che la politica, sta a guardare, la politica, insomma, ci sono preso da un certo punto, perché c'è la pure operazione, e chi lega le mani, e noi, per far funzionare il servizio, e farlo funzionare, ancora meglio l'uomo, stiamo recuperando, quindi bisogna decidere, se si dice che si matta, la lotta dell'evasione, oppure se si dice, che si matta le cartelle, se mandiamo le cartelle, comunque la lotta dell'evasione, non la facciamo, se poi siamo pazzo, noi, questo lo vediamo, vediamo il percentuale, che cosa è successo, e quali sono le impostazioni, però che non si dite, che la lotta dell'evasione, non la facciamo, soprattutto con i grossi, forse non è mai stata fatta, nemmeno i grossi, mai, perché noi abbiamo la capacità, di sedere, ci troviamo dei grossi, e di nuovo pari, e poi si è finita, forse sono più piante, che si è nata, nel mondo sommerso, quando stai nel mondo sommerso, io non sarò più certo, quello che devo, alla ditta, perché la ditta vuole essere pagata, quando ti viene a mancare, un grosso, è chiaro, ti viene a mancare, non il 1%, ma il 10% di quello, che devi passare, quindi di questo è fatto, diciamo, il primo finanziamento, però che si dica, che non c'è la differenza, ma che era questo, no, non è così, la differenza che c'è, la fa prioricamente, viviamo in città, che quando eravamo in città, c'eravamo 3.000, 4.000 presenze, a settimana, quindi non è, è quasi più grande, del paese, del periodo, che si è, non so, qui diciamo in città, in città, è solo che non si vede, che trovavano in città, in città, Scusa, posso sapere, ha parlato di un contratto, che contratto, che sta rispettando un accordo, preso da, in precedenza, se non sbaglio, l'ho sentito dire, che lei, sta rispettando un accordo, abbiamo detto, in tutte le salse, che c'era, tra le quali, un patto di comune di Gerasa, la l'avete amassato, a settembre, 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 un patto, un accordo, la l'avete amministrazione, la l'avete, dove si diceva, sostanzialmente, il cambio, della, della dilazione, del panamento, della venditoria, che c'è, che erano un accordo, ci farò pure, quindi, più di un altro, io, di dilazione, il panamento, e me lo, definisce, in 2016, invelo a settembre, a settembre, a settembre, di l'avete amministrazione, ti posso leggere, l'articolo 5, dove si parla, non so, posso leggere, questo è l'articolo, è il contratto, sottoscritto da, non è un contratto, no, no, che sia la diligenza, che il contratto, no, sono quattro righe, quelle di un accordo, no, 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 e cosa quello che è questo, scusa, io ci ho le date, quattro righe, quattro, ti posso, e forse non ce l'ha, di impegno a dare, forse non ce l'ha, se no, io ce l'ho, non è, è un accordo firmato da, da, adesso ti dico, vabbè, leggilo, quindi di cosa è quello che è, allora, l'articolo 5, di questo accordo, è un accordo, e allora, forse lei non ce l'ha, forse lei non ce l'ha, questo, io parlo di l'articolo, di settembre 2013, scusate, 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 non ce l'ha, non ci sapete perché, se volete venire, no, perché volete venire, non ce l'ha, non ce l'ha, ma ce l'ha mai, l'altro, 15, 10 settembre 2015, dai, e di settembre 2015, allora, nell'articolo 5, di questo accordo, si glasgo, dall'ingegnero Dicchio, Diego Benz, e l'amministratore, l'unico, come si chiama, della Tradievo, l'articolo 5 dice, trattandosi di pubblico servizio, le parti si danno atto che lo stesso sarà espletato agli stessi fatti, prezzo e condizioni attuali, sino al subendro del nuovo appartatore, dai di nuovo assento di nuova gara. Ok, adesso vi lascio finire, la Tradievo S.R.L. si impegna a proseguire l'esecuzione dei servizi nel rispetto del contratto risolto senza applicazioni di penale di sorte da parte del Comune. Ok, però dice una cosa, fatto salvo il caso di mancata esecuzione dei servizi pure in presenza di formale invito ad effettuarlo, quindi io credo che abbiamo avuto dei periodi in cui la Tradievo non effettuava il servizio, quindi è vero che noi ce l'avamo impegnati a non applicare le sanzioni, però è così impegnata ad espletare il servizio e qua c'è scritto, fatto salvo, il caso di mancata esecuzione dei servizi, quindi secondo me le sanzioni si possono applicare, cioè ma non devono a questo contratto, ma non ci puoi sapere che c'è dei cittadini naturalmente esiglia buona. Sì, ma è inutile che condisci, perché noi ci stiamo molto piattendo di quando ci stiamo a prendere. e dopo la risoluzione consensuale tra le parti che ha consentito di poter fare la carta, quindi ci sarebbe stata anche il decreto contatto in posto e che è quella che hai detto, quella è la decisione consensuale con qualcosa che diciamo regolamentava quello che dovrebbe essere il consiglio dell'accordo. C'è un altro punto dove viene eliminata quella seconda parte dell'applicazione delle sanzioni. attenzione, noi le sanzioni però, le abbiamo già creato, ma l'hai detto tu stessa, perché chiamare un'altra ditta a pulire la spiace, un'applicazione è una sanzione, perché chiamare se, se la sono chiamata così, chiamare un'altra ditta che sostituisca nel momento in cui lascia il video di questa carta, è una sanzione. C'è un'altra sanzione già in fase di applicazione, credo, santi, per quello di maneggimento del mercato, quando non viene il mercato, perché poi si sentono tante cose che è sfuggito di dirlo. Cioè, le sanzioni vengono applicate, io non capisco quelle cose che stiamo parlando. Non so, prima adesso non le possiamo applicare in due studi a un contratto, adesso… Non le possiamo applicate, noi non le abbiamo potute applicate per un lunghissimo periodo, perché per tutto il periodo del resto non abbiamo potuto applicare le altre sanzioni. E per quale motivo? Per il periodo del periodo? Per il periodo del periodo del resto. Ma dove stai? Cioè, questo è la proposta, sindaco? No, non è. E si è riferito a sedentro e criminali, quindi ci sappiamo… Allora, non è quello… però te lo… 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 registrazioni per i disservizi sono state fatte puntualmente all'ufficio tecnico, il quale è arrivato tutta la procedura del caso. Quindi il problema delle mancate, quella che è stata la mancata di portazioni o sanzioni verso la società, è dovuto solo a un fatto strutturale, che significa che l'ufficio non ha i mezzi, non ha avuto il lavoro dei mezzi per provvedere all'applicazione puntuale del contratto e è per questo che abbiamo, comunque abbiamo continuato noi come amministrazione a fare le segnalazioni. L'ufficio dove ha trovato i mezzi ha provveduto anche a fare delle degustazioni e nel caso dove si interagisce anche alla sostituzione della vita per effettuare il servizio, quello che è una lacuna era quello degli strumenti in pratica che l'ufficio non aveva i mezzi per fare il controllo, per andare a cercare se realmente le disfunzioni c'erano o non c'erano. Questo non succederà in un ritmo attuale, in quanto nel momento in cui si contratualizza avverrà che verrà nominato un decreto, si chiamano la comprensione di esecuzione del contratto, il quale il vigilerà contro il contratto sarà in questo momento idoneo per far sì che non venga mai omesso nessun servizio, nel momento in cui viene omesso verrà a fare immediatamente tutto il procedimento di votazione. Grazie di voto, passiamo alla votazione, favorevoli, sette, assoluti, contrari, sì, consigliere Musillo, Merlo, Scandale, Carriero e Giacomo. Consigliere Musillo, Merlo, Scandale, Carriero e Giacomo. Grazie. 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 di cui si è portato il comune, questi prevedono un riferimento alla parte delle risoluzioni tariffali, per esempio nel caso di abitazione con un'unico occupante, abitazione tenuta a disposizione del uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, locali diversi dalle abitazioni, aree scoperte e diritti al uso stagionale, l'uso non continuativo ma ricorrente, abitazione occupata da sardeschi che risiedono abbia una rimuna per più di sei mesi a un anno in estero, fabbricati rurali in traduzione abitativi, oltre ad ulteriore riduzione delle sezioni rispetto alla città del incarico, il contributo può essere disposto attraverso apposta l'organizzazione di spesa e può essere assicurato attraverso il ricorso alle risorse derivanti dalla fiscalità generale. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Visto ciò, si chiede di deliberare per i motivi espressi nell'articolo di determinato plan 218 le tarifiche del tribù sui rifiuti tali, secondo lo schema tariffario, allegato alla presente tariffa. Non che, ossia l'allegato a... Nello specifico, relativamente alle problemi domestiche di utilizzare, si delivano di utilizzare un coefficiente adattamento tra la PII o il TII o il TII o il TII o il TII o il TIA o il TII 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 o il TII. categorie relative a 6 o 8 componenti. Queste sono applicazioni di coefficiente di adattamento per la determinazione della tariffa per ciascun cittadino. Inoltre, relativamente alle utenze domestiche, nell'opportunità di ammigrare il presente 1 o tutti i sacri di grado di una parte di certi indicazioni dell'articolo 3, con la legge 104, con il reddito dei 6 di seguito e confermare la riduzione del 50% della parte fissa e della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, con il reddito delle disegno superiore a senza 1 o fino a 1 o meno, confermare la riduzione della tariffa delle utenze domestiche. Relativamente alle utenze domestiche, in cui il gruppo è cambiato con 3 o 2 fili a carico persino di un risultato economico, con il reddito dei 6 o meno superiore ai 1 o 3 mila, di confermare una riduzione del 50% della parte fissa e della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche. Relativamente alle utenze non domestiche, utilizzare i coefficienti di adattamento per il 50% di cui ha il DPR 158,99, all'interno dei midden rispetto ai colori proposti dalla del 50% della parte fissa e della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche, rientrando nelle categorie tariffari 3, limitatamente alle zone a risuovere, nelle categorie tariffari 8, limitatamente negli agriturismi e nelle categorie tariffari 2,24 e 27. Relativamente alle riduzioni di due punti precedenti, di coprire il costo delle stesse imputando a tutti i colleghi tariffari. L'Italia con l'Italia trovava presente lì per l'effetto a prima generale 2018. E' chiaro che questo è un riempito del metodo che viene applicato per la distribuzione del costo delle utenze, della tariffa sali per i cittadini. In pratica il metodo non è variato, rispetto agli anni precedenti, quello che è variato è l'importo che viene spalmato e che viene fuori dalla ridistruzione totale del costo per il servizio. Come detto prima, l'importo complessivo è di un mito di una sonda di un importo pari a 63.000 e deriva quindi la riduzione per i cittadini di una percentuale variabile che va al 3, 4 o 6 per cento per tipo di utente. Questo è che è stato possibile, grazie alla riduzione dell'intervento di discarica, frutto del maggiore controllo del territorio e quindi della prevenzione verso l'abbandono dei rifiuti o il conferimento dei rifiuti dei paesi limiti nei contenitori del nostro comune. Detto questo, la tabella, non a momento di legge, ma in pratica quella che consente per tutta la casistica di utenze e della determinazione della propria tariffa è che chi si trova nelle condizioni medesime dell'anno precedente avrà una riduzione che, quando ha, se parliamo di utenze domestiche, di un occupante avrà una riduzione di circa 7-8 euro per la privata 14 euro, se ci sono maggiori occupanti, 18 euro se ci sono maggiori occupanti e così via. in pratica c'è un abbattimento di circa 6-8 euro per le utenze domestiche e un abbattimento inferiore per le utenze domestiche. Detto questo si chiede la proposta. ci sono interventi? Allora, in riferimento appunto in questione che ci accendiamo da provare, in un gruppo scendato di gioco, volevamo porre, mi sto raffreddando, la finestra non si chiede la proposta, mi sta raffreddando la voce, passiamo proprio per le settimane. Volevamo porre l'attenzione della maggioranza e dei membri della minoranza sulla possibilità, se volete prendere in considerazione, io vi faccio sempre portavoce di quello che mi viene detto per la gente, di poter sgradare parzialmente l'imposta dei rifiuti, oltre sui rifiuti familiari che avete appena finito di descrivere il vicesignato, ma anche di poter sgradare, pensare su uno sgrado parziale su quelle famiglie che hanno i figli all'università e che magari vivono, oppure chi ha la residenza qua e magari per ragione di lavoro si è spostata in altri punti. Questo sempre dietro comprovato atto di contratto di locazione e dopo aver provato che loro le tazze comunque le pagano da un'altra parte. Quindi non voglio dire che vogliamo assolutamente abbatterla tutta la tazza, però sulla famiglia che ha un figlio universitario che sostiene già tante spese, penso che sia un modo benevole da parte dell'amministrazione andare in conto a questa problematica, anche perché è la legge 147 del 2013, l'articolo 1, come va bene il 62 per mese. Naturalmente, se pensiamo di effettuare questi sgradoi, non devono essere caricati sugli altri motivi più contribuenti, così come avviene dalle famiglie di cui ha parlato il vicesignato. dovremmo pensare di bucarla in bilancio con l'imposita autorizzazione della scritta. Se volete prendere la considerazione magari per l'anno prossimo, noi già dovremmo per formare una proposta scritta. Grazie. Ci sono altri interventi? No, volevo solo ringraziare il vicesignato. Visto che si stava discutendo di un punto chiaro in cui è stato lui, giustamente ha pensato bene di abbandonare la teglia. ... ... Ma altrettanto, ... ... Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e 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 tutti. e a tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e tutti. e a tutti. e tutti. e tutti. e... e tutti. e... e... e tutti. e... 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 ... 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 Il terzo è l'emendamento del gruppo Consiglianzio Nazionale Libera, l'operazione del Consigliere Negro, anche qui ci sono un pari che sono regole, anzi due, e due o tre. A questo punto abbiamo presentato le contraddizioni che vi vado a leggere. Emendamento al bilancio di previsione 2018-2020 del 1-3-2018, protocollo 38-33. Visto il parere di regolarità puntabile e risultato puntabile del settore gestione risorse finanziarie in data 5-3-2018, in cui esprime parere sfavorevole, visto l'articolo 49 del 2-3-2018, controdeduzioni, premesso che in data 1-3-2018, con nota aclarata al soccorso dell'ente al numero 38-33, i sottoscritti hanno presentato emendamento per la restituzione del capitolo di bilancio della figura del sistema sociale in Italia. Preso atto della rosa del responsabile del servizio finanziario dell'ente, in cui si esprime parere sfavorevole, poiché per tale figura professionale concorre una spesa annua di 31.502,55. Considerando che con la spesa di euro 20.000 è possibile garantire la spesa per 8 o 12 centi del bilancio del 2018, evidenziato che la spesa di euro 7.000 per la figura professionale di assistente sociale non risulta prevista nel bilancio, né risulta evidenziata nella missione 12.5 del bilancio del 2018, i sottoscritti con la presenza confermano e retinano quanto richiesto con la città valuta del numero 38-33, stanzando l'onico 26-3-2018. Devo... ... 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 Allora, come ho detto nelle condizioni, noi del gruppo Santanogica confermiamo e riteniamo un conto richiesto, perché, così come ha precisato nella parere del responsabile finanziario e nel parere del servizio dei conti, le zone della spesa di Euro 7.009 per l'azienda prevista per l'assunzione di tali pitture sono inserite nel bilancio di previsione 2018 e che per la spesa, scrive a previsione contabile, è iscritta regolarmente in bilancio nella missione 12.5. Ci siamo fatti una domanda, cioè siamo capaci di fare magie, di estrarre quindi le zone previste per l'assistente sociale nella missione 12.5, con la stessa abilità che tra l'unico sindaco, estrae i 12.5 dal cilindro, cioè, il capitolo dedicato per l'assistente sociale è 12.4. Infatti, nel 12.5 c'è un calderone, cioè, c'è una somma di 78.000 euro e io non vedo assolutamente la somma dei 7.900, così come ci hanno dichiarato, insomma, l'evisore dei conti è responsabile finanziario. Infatti, noi evidenziamo, nelle nostre contodiduzioni, che la spesa di 7.900 tra la figura professionale dell'assistente sociale non risulta presente nel bilancio, non è risulta evidenziata nella missione 12.5 del bilancio 2018. Inoltre, avevano spiegato il bene da dove scattuisce la somma dei 20.000 euro, anziché i 31.502, così come avevano precisato nelle motivazioni di tempo. Quindi, che cosa avevano pensato? Partendo da questo dato che ci aveva dato l'assistente finanziario, quindi di 31.500, tenendo conto che siamo già a fine marzo, che siamo formato il bilancio di previsione, fin quando si dà corso a tutte le procedure che devono essere messe in atto per fare a distrutto le risposte, quanto altro? Un minimo se ne salva un altro mese, quindi siamo già da fine. Facendo una dimissione algetrica di 31.000 euro in Cisodotici, 4.600 euro in Cisodotici, che però può fare 21.000 euro. Quindi le somme che noi avevamo previsto, più o meno, mancavano in euro, perché ci eravano rispostati da. Quindi ci troviamo, secondo il nostro avviso, di fronte a un incontrato di negro, oltre alla mancata volontà, questo puntare la rete ha visto il sindaco che quando ha parlato del gruppo, non ha parlato di sicurezza sociale, ma di sicuro l'oggetto fa... No, ma non ha menzionato. Non c'è, c'è, non c'è. Va bene, però, perché me la faccio di capire... Nella relazione no. Ah, ok. Quindi, tra l'altro, il responsabile finanziario aveva riferito sia alla sottoscritta, in presenza anche del collega Giacco, che le somme si trovavano nel bilancio di previsione 2018-2020, sotto la voce di spese per il personale, e subito a questo, sì, no? Non c'è, non c'è, non c'è. 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 Non c'è. Noi non le abbiamo provate, adesso li stego a noi, ne abbiamo provate. Tant'è che, visto che mi ha detto che stavo nel bilancio di previsione, tra le stesse, e li stesse seguite, per sommare che cosa ho fatto, sono andata a sommare, a fare una differenza, quindi ho sommato praticamente giusto qua, adesso li stego bene che cosa ho fatto, ho sommato dal bilancio di previsione tutte le spese in campo alla personale quindi ho fatto una somma argentica delle competenze liste per un importo di 938,657,658 le competenze accessorie per un importo di 101,500 mila più i contributi a carico dell'ente e quindi mi da una somma di 1.430.238,25 che sottratta a quella del predis del bilancio, nella somma totale del bilancio di 1.438,25 mi da esattamente la cifra di 7.900 che sarebbero le somme che mancano il bilancio di previsione per l'assistente sociale quindi c'è una rispondanza tra quello che è previsto nel group e quello che poi è stato rincontrato perché la somma mi da 1.430.238 e non 1.438.238 così com'è riportato nel group inoltre nel group è stato previsto per l'anno 2018 l'imborso in questa parte di esempio perché l'assistente sociale viene rimborsata per il 50% dai fondi regionali naturalmente se lo diamo il servizio, se non lo diamo non abbiamo proprio nulla indietro quindi attraverso anche questa diminuzione quindi se io vado a fare le superiore diminuzioni a 1.430.000 nelle spese di predizione arriviamo a 1.426.000 euro quindi ho c'è un errore di trascrizione, non lo so, di conti perché io ho fatto la somma e la somma è quella, non si discute quindi di 7.900 euro nella professione del bilancio non ci sono quindi possiamo tranquillamente affermare a questo punto che a distanza di un grande civile dal vostro insediamento non riuscire a programmare e a pianificare nulla per questa figura ed è anche per l'assistenza specialistica delle scuole e io vi avremmo più volte sollecitato in questo senso quindi che cosa devo capire? che si prende la bene e si la torna male io non ho dubbio il sindaco che lei ha una sensibilità e un'attenzione verso il sociale però se tutta questa attenzione fanno le valore e non si tramuta con i fatti mi viene qualche dubbio mi viene qualche dubbio sinceramente da pensare che è l'attenzione verso le fasce dell'epoca quindi è vero che come ha detto prima avete avuto un finanziamento di 290.000 euro per istruire questa tazza di accoglienza e questo mi fa un'unione e vuol dire che quando si va alle conferenze dei sindaci col senso di quello che si deve fare poi risultate a tazza minima quindi concorda con me che la presentazione è importante ma se noi non prevediamo le somme il sindaco dalla regione non ci trovano i passi dell'epoca per quello riguardo all'assistenza specialistica nelle scuole che in altri comuni è fornita non partecipiamo neanche alla commissione dei fondi regionali date quando le fai a comuni della profita perché è un altro servizio neanche quest'altro i fondi perché il servizio non l'abbiamo dato quindi i fondi sono stati dati a quei comuni che hanno fornito il servizio quindi questo volevo dire cioè questa attenzione che fa aiutato per il sociale poi si rivela inesistente quindi la prego sindacità auspitalia per questa problematica perché veramente secondo me a distanza di 2 anni dal vostro insediamento è inevitabile che non si programmi nulla a parte che queste cifre di 7900 euro sono veramente ridicole sindaco perché non si ricorda quando ero assessore al bilancio vice sindaco ero uscita con la cifra che mi veniva molta insomma perché io prendevo questi tempi da mia età dal risparmio che si faceva nelle mie età per poter diciamo lottare per avere la figura che poi abbiamo preso la psicologa dopodichè l'abbiamo avuto soltanto l'assigliozio se non mi sembra che un comune come quello di Stanzano si possa permettere il uso di avere un assistente sociale l'assigliozio soprattutto calcolando che che l'assistente sociale collabora anche con le autorità giudiziarie quindi sindaco io vi chiedo con forza a questo punto così come l'ho chiesto in altre sede altre volte al consiglio comunale avevo interpellato anche l'assessore preposto cioè di farsi carico di queste problematiche e poi mi ritrovo ad approvare un bilancio di previsione dove i soldi per l'assistente sociale non ci sono e in più vengo pure preso in giro dicendo che stanno nelle spese del personale io vado a fare la zona e vado a casa e mando a 7.900 euro per l'assistente sociale se vuole le domande se le controlla se le guarda tutte le le io non possiamo più tollerare questa cosa quindi per questo motivo spero che tenete conto delle nostre deduzioni vado a verificare i dati del piano ciò che mi dice se ho troppo o se ho raggiunto grazie quindi se ci sono i 7.900 euro se ci sono sì ma non ci sono sì se lei si fa una somma gelosa non ci vuole tanto ma potremmo avere tutte le somme e vede che c'è una rispondanza poi la cosa che stavo dicendo la cosa che non mi sembra giusto che se si prevedono queste somme per un imposto di 7.900 devono essere scritte no? nel capitolo 12.4 nella lezione 12.4 non devono stare nel 12.5 in un calderone di 78.000 euro come le trovo io da detto il bilancio deve rispettare i principi che sono quelli della trasparenza della veridicità e quando poi non c'è la trasparenza e vogliamo infilare le somme poi le tiriamo da qua e le mettiamo là penso che non sia proprio il modo corretto di operare quindi grazie chi deve dire? le somme le somme ci sono al al 12.5 io se permette il mio concerto mi fido più delle dati che fanno i miei uffici dei quali ho appena fiducia siccome non mi permette le anni facciamo fare ragioniere al posto quindi abbiamo responsabile dell'ufficio di pagato appositamente per fare questo lavoro con il mio concerto che ha fatto il mio concerto non c'è il mio concerto ma è tutto normale il mio concerto ci sono 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 7.900 euro e ti dico pure che sono tutti, però quelli siamo riusciti a riferire in questo caso, in questa organizzazione e ti dirò che nell'ambito comunque ci sono dei fondi che stanno per essere ripartiti e che potranno essere utilizzate, oltre a quelli dell'ambito, c'è un altro progetto che ho fatto con un altro, ma comunque potranno essere utilizzate per il paramento, decisamente, o per il paramento dell'assistenza sociale e di te lo dico, anche se non si trova, forse vi avremo tutti e tutti, perché forse ti sei perso anche il passaggio ultimo, e questo è un passaggio ultimo, però sei perso perché non hai mai partecipato, probabilmente chi partecipa, ultimamente il giornale che è venuto qui, non vi avrà riferito, ma non si direi meglio, non si direi meglio, ma se ti dico che proprio nell'ultimo che si è svolto a partire, è messo in un uomo che ci sono i fondi da ripartire tra i comuni, c'erano i comuni allettenti che non comunicavano, perché non erano scanzati, e questo impedìva poi questa velocità, che ci sarà, E tra oltre i sette e nove che ci sono, ci sono, ogni persona c'erano i tuoi, dovevano essere che si erano lì, dovevano essere tuttostante, ma ci sono a questo punto non deve disturbare il sindaco o qualsiasi altra cosa grazie io mi fido certamente ci pertene i numeri non è di mia competenza fare un sindaco rispettivo nei confronti di come fare le cose non è di mia competenza di fare il sindaco rispettivo io conosco benissimo i giorni il lavoro è di indirizzo politico per l'assistente sociale qualsiasi c'è il ruolo da qui poi come, dove allogare questo è un problema che riguarda gli uffici e in fondo esiste un organismo che tu peraltro conosci benissimo che si chiama morte dei conti alla quale recentemente te l'ho prescritto facendo un'interrogazione ma è la parte della morte dei conti si te l'ho scritto a Roma e mi sembra strano che alla morte dei conti si scriva come intende il ruolo di consigliere se questo per te indirizzo politico piuttosto invece che essere sindaco rispettivo nei confronti dell'ufficio che è l'unica cosa che non si può fare da consigliere comando il sindaco rispettivo tu puoi avere accesso a mille altre tutto quello che vuole ma il sindaco rispettivo nei confronti dell'ufficio non lo potresti fare perché c'è un organismo che possa che si chiama corte dei conti e forse ma così di più voglio dire la dovrebbe la dovrebbe la dovrebbe capire e quindi diciamo essendoci alla parte dei conti io mi rimetto a quello che forano in un ufficio poi se la parte dei conti farà dei rivieri allora può trovare mi preoccupare però le poste in questo caso ci sono quindi non vedo perché mi vengo a preoccupare diciamo di qualcosa se poi la vogliamo aggiungirsi che ci prepariamo e poi la vogliamo tutte veduta è il tuo sindaco rispettivo si deve rispettivo come il tuo gruppo lo si vede anche da quello che è successo recentemente vogliamo dire tra gli altri consiglieri e i cittadini che noi vediamo per una settimana se sarebbe un ufficio perché tu hai chiesto delle cose assurde mi fa ridere mamma mi fa ridere hai chiesto una mole di documenti hai chiesto residui i cammini e pazienti e quando ti sono stati forniti dei dati io voglio un combinativo per nominativo dei cittadini cioè tu vuoi sapere un cittadino un cittadino ma è determinato quanto deve al pubo ora mi devi spiegare se questo non è il sindaco rispettivo nei confronti degli uffici ti dà una cifra totale ti dice un milione di euro ma in questa scambione non voglio sapere vado a scambiare quanto deve al pubo allora vuoi essere il sindaco rispettivo oppure altro che è francamente il buon principio perché una volta che sai tutte queste informazioni cosa dovrei fare lei andrà cittadino a cammino che la progete magari o dovrei dire che si sa che si sa che questi documenti e queste sono non si deve permettere di continuare a minacciarmi non si permette di continuare a minacciarmi se lei sa che cosa sono le situative e il paziente sa anche l'importanza di avere le situative e il paziente iniziali ma stiamo noi così non si può venire caro sindaco ok il sindaco lo faccio quando si non le piace sarebbe una capisola ma stanno andando proprio i moriti iniziali ma assistente e social poi l'accesso agli atti non lo faccio un altro discorso caro sindaco se dobbiamo fare il periodo psicologico e le minacce non le due alla frase siamo su un altro per la vita continuiamo a minacciarmi continuiamo a minacciarmi continuiamo a minacciarmi rimaniamo con il periodo che è diciamo che il sindaco è rispettivo secondo te poi le vacanze le facciamo anche con le minacce continue che fa va bene però per rimanere che è il tema c'è questo che tutti gli eventamenti sono stati proposti per avere il taglio dell'identità i soldi della tua metà l'identità sì però tipo di questo l'altra metà la posta non è che rimani senza metà iniziali ne perdiamo voi ma ti posso spiegare la parte scusate no scusate non sono scusate non sono scusate scusate ma di giorno perdiamo la pazienza prendi i nomi e poi le risorse secondo la consigliere a me tutti come dire la presenza lì avevano preso tutte tutte il battaglio dell'identità come se noi stessimo qui a passare il tempo la macchina ma si è tornati a un diritto a vivere come al diritto di valore allora ci troviamo a ricamare con la mia metà l'identità sì ma la metà è parata la proposta diciamo non me l'avrà nessuno io mi lascio la prima se vi consigliere a me è parata se vi consigliere che noi abbiamo consegnato per esempio i dischetti del bilancio a tutti i consiglieri comunali gli unici due consiglieri dello stesso gruppo peraltro appartenente dello stesso gruppo di Scandaroli che hanno preteso invece il cartaggio del bilancio il che ha significato 1.400 solo copie da fare 700 per la consigliera 700 per il presidente e così cioè non tolgo che mi si venga qui noi vi cerchiamo di risparmiare in tutti i modi e mi si dica no vi dovete tagliarmi in verità allora se abbiamo senso di responsabilità per favore consiglieri la passione oltre come gli strumenti che li avete il dispetto è un rispetto che è sufficiente quindi è inutile a scopo meramente regulativo che è meglio chiedere le loro copie cartagge e l'unico che è stato peraltro netto a proposito di scrivere quando ti mettiamo visto la proposta di trasparenza ti mettiamo a disposizione di un computer con una password è vero non è vero che l'ufficio che ha detto questo altro che immaglianza di trasparenza abbiamo detto ti mettiamo a disposizione un computer con la password ottenere di tutto quello che vuoi questa è immaglianza di trasparenza questa è immaglianza di trasparenza o tu la stessa stessa è una forza e non lo so allora mi sento mi sento a me di intervenire perché qua mi sembra che tutti i consiglieri vanno un po' castellissimi però i consiglieri possono richiedere pur che mi va ok perché il consiglio comunale lo diceva in questo ultimo e precisamente lo dice l'articolo 38 dove diciamo il regolamento di cui accomodo i consigli di civile per la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consigliari regolamenti risorse indesibili forniture di servizi attrezze dure risorse finanziarie e quello che fa quella giunta anche da dotazione sociale quindi in questo discorso uno non è detto che se non c'è un contenuto o c'è delle possibilità non è detto che deve dare delle motivazioni a dire no io voglio così io non voglio così grazie perché ci avete dato la disponibilità per il rispetto ma a me non è lo spuice perché se ho il computer pronto non devo dire il computer pronto ma ci devo dare il computer del comune no lui c'è il computer del comune ma il computer del comune ma perché vogliamo fare un risparmio su unanismo e risparmio vuoi fare 10 euro 1.400 1.400 sono 15 euro perché non risparmiamo però dico io dovrei poter risparmiare dovrei risparmiare sul polvo che è pagato e che si può la prossimità al campo sportivo e il polvo della scelera macchina andate il risparmio no dobbiamo risparmiare sulle cose che ci sono consiglieri dico che il computer è esito perché il consiglio comunale dovrete fornirci il consiglio comunale dove mettere il dischietto e dove io voglio essere spiegato poi c'è per voi quello che vedo visto che il bilan non è stato provato in questo e qual è la similità la paparera continuere a dare quando si spieghi 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 con il progetto considerate il gesto il progetto ma questa che c'è quando avete la traccia delle persone questo è il progetto che ne va male con il progetto considerate bello per contesia considerate bello per contesia e a tutta la mano sulla gente ok? considerate bello per contesia per contesia considerate bello ok? ciao ho chiedito io tutti i consiglieri se ti faccio un po' di più la testa pensiamo con la dichiarazione di voto no 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 non lo possiamo fare no 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 perché è motiva del bilancio solo consiglio della discussione o potete di subito di bilancio cioè non si vota con gli avventamenti si si vota con la discussione si è così la discussione degli avventamenti si allora quindi il quattro avventamento che comprende tre avventamenti giusto? non dicevo un città un protocollo un altro che lo sento la volta delle potenti il protocollo 3848 3848 del 2 marzo regazione consigliere l'usillo sono tre di investimenti quindi allora il primo avventamento che è la missione ordine pubblica e sicurezza di una della voce di investimenti realizzazione e sistema di disorganizzazione per un importo di 140 mila euro di prima questa somma riuscibile si propone di smicolare 80 mila euro questi soldi qui e si ritiene di 10 anni per la somma di 50 mila euro per investimenti di sostituzione e potenziamento di segnaletti trasportali e 30 mila euro per la manutenzione delle scale e silenziali l'elementamento 2 alla missione turismo prevede la valorizzazione economistica per investimenti di frizioni di un po' di 40 mila euro valorizzazione economistica e realizzazione del sistema di videosorveglianza anche qui troviamo 4 volte 40 mila euro di videosorveglianza videovide deducibili la spesa per interventi di frizioni di un po' di 2 mila euro e a ritenuta questa spesa non 100 per canalizzazione del sistema 40 mila euro che il sistema è stato previsto già l'avete previsto per una sorta di 240 mila euro si chiede in realtà di impegnare 20 mila euro per la messa in sicurezza del video per zona che si fa perché si pensa che lo Stato rimane a chiuso e di impegnare 40 mila euro per la sistemazione del 90% di investimenti di finanza di finanza ora diciamo di noi di questi soldi per quanto riguarda turismo derivano giusto dalla tassa di sorgio a pomisoro quindi se noi chiediamo al turista che ha contributo dobbiamo dare pure qualche servizio attrezziamolo qualche servizio per il turista poi diventamento del trasporto e di vita alla mobilità sono temi di siti altri 54 mila e 750 54 mila euro di nuovo per la semirente di Castadale e 30 mila euro per la contenzione del Stato ora visto che l'abbiamo spostata nell'elementamento 1 per quanto riguarda l'ordine pubblico e sicurezza dove gli introgli sono venuti alle volte quindi questi soldi qui per il trasporto e la domina spostavoli per un'altra voce quale è quella della sistemazione per i palazzetti dell'osporio aveva detto l'assessore Sisto che era a disposizione per il palazzetto dell'osporio poi lei invece per quanto riguarda il tetto di bissequestrato non ha visto assolutamente e c'è stato anche un giocamento o non è che la prima sì ma vogliamo spendere come di solito per il sistema ci sta pure ci possiamo questi sono il sistema mentalizzato questi sono il sistema mentalizzato possiamo pure notare questo è bene stiamo sulla attivazione del l'entrame sì tutto è bene sì 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 l'entrame l'entrame Grazie. Sono contenta di aver avuto tutti questi pareri favorevoli, anche delle persone dei conti, del responsabile contabile e del responsabile amministrativo. Sono veramente felice. In merito all'aventamento presentato dal nostro gruppo Scandano Libera, che è un voto favorevole da parte della maggioranza e dai colleghi della minoranza, in quanto io e il consigliere Giacomo, nonché il Presidente del Consiglio, abbiamo ritenuto che il lacunoso bilancio di previsione 2018-2015 che ci accendiamo a votare, presenta tra i tanti servizi non erogati, la mancata previsione degli acquisti per gli arrendi del nuovo complesso scolastico di piano unico. Il nuovo complesso scolastico, un gioiello nel panoramico lavoro dell'edilizia scolastica e della chiama, potrebbe rimanere tale soltanto se gli diamo un denno a regamento, con giuste dotazioni tecniche, che in un plesso avranno la rega medica. Un complesso dove i nostri figli, anzi i nostri perché io ho già dato, andranno a scuola, usufruendo di avere attrezzature nuove e console al posto che gli ospiteranno. La nuova scuola elementare è un fulgito esempio di progettazione e di un cimilanza, che è una bella amministrazione delle aeree. Cari consiglieri, la progettazione non deve mai venire in mieto, perché solo con il giusto indirizzo politico e con una giusta progettazione, che si mettono nei cantiere oltre e che più o più si realizzano, nonostante i denti di una burocrazia paricino-segurica. Magari non sarete voi in futuro a realizzare e poi innamorare le strutture progettate, ma di sicuro sarete stati più attenti di qualcosa che si realizzerà in futuro. Vi esorto quindi, cari amministratori, a produrre e far produrre dagli uffici precosti una massiccia progettazione del futuro. Vi esorto nuovamente a colmare la lacuna del bilancio di prossima votazione e per rispondere al sindaco, in merito agli stimenti, caro sindaco, quando un amministratore è chiamato a servire il popolo non deve certamente vedere la carica di amministratore come il nuovo dove prendersi l'ossimento. Quando mi avete chiamato, sapevo bene che cosa è andato in modo, sapevo bene che le mie indiettate le hanno indiettate e sapevo anche che dovevo pagare le tasse su quelle indiettate per cento. Avrei fatto volentieri anche io, sindaco, e gliel'avevo già detto in più di un'occasione, che per il bene dei cittadini un sacrificio anche di qualche mese si può fare. In vite e conti lo stiamo facendo per una giusta causa, lo stiamo facendo per gli arredi, che l'ingegnere di Dio mi ha detto che già da diverso tempo che vi sta sollecitando di prevedere queste soldi in bilancio e non le avete previsse. Ecco perché, siccome ero andata a chiedere più volte, ho detto che le avete però programmate, le avete programmate, ma detto di no. Per questo motivo ce l'ho in mente di togliere questi fondi dalle vostre indiettate. Poi ripeto, sindaco, le puoi anche ridere, visto che mi viene tanto da ridere. Però, come vi ho già spiegato, se io percepisco questi bambini, non mi devo dare un talento, perché il bambino è del lavoro, me lo sono cercato e mi ha aiutato. Lei ha un studio professionale, così come ce l'hanno altri componenti della sua amministrazione, e di sicuro io non sono mai venuta a dire che lo dovete chiudere, ok? Dovete abbassare le saracinesse sui studi. Così come abbiamo imprenditori, che non penso che se uno pari devono amministrare, devono chiudere le loro aziende. Visto che, fino a sempre in valore, si vede, se è proprio quello che è evitato a signo, non si vede, perché ve l'ha già detto in alto caso, neanche quando lo dice il sindaco. Quindi la prego di smetterla, e la prego soprattutto di smetterla, di minacciare. L'ha già fatto dall'inizio di questa seduta. Ripeto, credo che si deve sappare la bocca, ok? Dai, non si permette di sappare la bocca, minacciandovi, denunce, quant'altro, e di far perdere i costi di nato, ok? Quindi vi chiedo, per favore, vi danno il voto favorevole, se lo ritenete una giusta casa, non permesso. Grazie, complimenti dopo il gruppo e anche la consigliera che mi viene fatta da ridere. Continuate a ridere. Mi sta ridendo, mi sta ridendo. Io ho guardato bene, continuate a ridere, continuate a ridere, fate a ridere. Ma se viene in mezzo, se non è permesso di ridere di quello che lei riferisce in serie consigliate, dal momento di un uomo di consigliere che le appartiene e che vi appartiene, e quindi vi siamo accordati gli interessi della comunità. Infatti, qual è? E mai mi verrebbe il mio. Non certo che fare i minacci del consiglio comunale, ma non certo di tentare di tappare la cosa, no? Non consiglio comunale. Certo, adesso mi dobbiamo imparare a rispettare le buone regole della condivenza civile, quanto lungo non accalandarsi nel parlare quando una parola la prima qualcuno. Grazie. Grazie. Ci sono interventi? Quindi, ora la relazione è il SIDA per il bilancio, e poi questa è la morte, ma è il intervento per il bilancio. La relazione è il SIDA per il bilancio della condivisione. Cari consiglieri, ci aggiungiamo a raccontare la discussione del bilancio dell'infezione del 2018-2020 in un bilancio di ricuse di tutta per i comuni. Il bilancio che viene proposto a vostra attenzione nella discussione e alla attenzione risente nei cambiamenti della crisi che ci attraversa delle conseguenze derivanti dal palazzo legislativo messi in atto del tentativo di attenzione. Il nostro bilancio potrebbe fare i conti con due fattori fondamentali, provvedimenti normativi riguardati la responsabilità locale, intervenuti nel ricorso dei solitari che hanno imposto tagli progressivi ai trasferimenti statali e alla spesa di parte corrente. Tagli, aggiungo in questa sede, sono stati ulteriormente ricorso stili purtroppo quest'anno prodotti di oggi. Dalla pressione insostenibile dell'ex patto di stabilità ora per il bilancio, che ha messo su uno stesso piano comuni virtuosi e meno virtuosi per risanare una situazione economica più disastrosa. Salvo voi, vedete, che alcuni comuni più virtuosi, lo dico bene come un fabbio contributo di quella più raggiunzione che la regione basile ha dato, ne faccio anche una denuncia pubblica, ad alcuni comuni, preme stesso, non ritenendo di dover premiare invece i comuni come scanzati che ancora resistono in maniera assolutamente eroica, credo io, e quindi non fanno danno alla comunità in generale, però per questo vengono ritenute non meritevoli di avere invece dei gadget, delle consistenti erargizioni, un po' se ripete che c'è tanto dei comuni che sono per risposto che, come mai, va, anziché a pregare in merito se non è la domanda che è giusto, per esempio. Lo Stato sempre più delega ai comuni a reperire risorse che inevitabilmente deve chiedere con i cittadini. Noi stiamo riuscendo invece a mantenere un'operazione a pressione fiscale, ed anzi, come nel caso dell'Atari, è stata passata ai cittadini. Molte sono le problematiche che accanano i comuni, le aziende che chiudono, l'allarmamento della fascia di povertà, la perdita di capacità di acquisto delle famiglie, il traumatico dato della disoccupazione e il fatturazione del giovane. Anche in questo caso, però, l'assegnato del nostro fondo e mostra una capacità che è la incontrodentrenza, numerose aziende e attività che aprono, ultimamente, con l'Italia del nostro, mi fa piacere. Investimenti sul territorio, basta vedere la zona vecchia, regionale, che è la nuova altra un po', e creazione di posti di lavoro che, se non risolvono i problemi che sono indicati, limiticano propriamente. La priorità è quella di garantire servizi di buona qualità e sostengono le famiglie, soprattutto in campo delle infanzi, della scuola e del sociale. Tutto questo, tenendo in regola e conti, rispettando tutti i testi e le norme imposte dal governo e non mandando in deficit il nostro comune, proseguendo con il contenimento delle spese e limitando ulteriormente il costo dei servizi. Ogni spesa sostenuta dal nostro comune, proprio perché siamo perconci e pagata dalle tasse versate dei nostri cittadini, è stata analizzata scrupolosamente e, se non necessaria, eliminata o rimonta. Risparmiamo persino sulle stampe e sulla carta, anche se i cari sforzi vengono a volte qualificati, con richesse assurde e predescuose, che accravano inutimenti i costi dell'administrazione e non mostrano la stessa passione, sensibilità e l'amore verso il Paese, tendendo a distruggere più che approvare e costruire. Il bilancio di previsione presentato è basato sulla riduzione della spesa, con una riduzione dei costi superflui minuti, su una concretazione di contrasto all'emazione fiscale, che consente di garantire il mantenimento migliore dei servizi e potenziali di interventi di manutenzione ordinaria e storica. Il bilancio è l'altro programmatore più importante per il comune, ed è il documento nel quale devono rappresentare contabilmente le previsioni di natura finanziaria, idrite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale, considerato, e documenti di programmazione dell'evento, attraverso il quale gli organi di governo l'umente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che ha distanzione per realizzare. Dopo anni, il fatto di stabilità interno è stato sostituito con il nuovo piccolo del pareggio di fidanzo, di competenza finale. Rimarcavo il rispetto del pareggio di fidanzo e delle esercizioni. L'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di equilibrio o del fondo di solidarietà comunale. Sto praticamente leggendo quello che succede, quello che è successo ad altri comuni che sono andati in prego fallimento, in prediscesso e in prediscesso, è quello che succederà per noi, ove ci andassimo. Ecco la testa non esistente. Quindi, il mancato rispetto del pregio di darmi, prediscesso, significa l'ente locale è assoggettato per una riduzione del fondo sperimentale di equilibrio e del fondo di solidarietà comunale. L'ente non può impegnare stessi corretti, in misura superiore al riporto dei corrispondenti impegni che quadro nella fine cedente. L'ente non può ricorrere all'adeguidamento degli investimenti. Questa è la consulenza più seria. Mutui e prestiti obbligazionali. Significa che, come un cittadino, qualunque, è normale, se è protestato, è segnalato a crisi, si deve portare all'afficio, quindi si è rotta, non la può acquistare. Ecco, l'equivalente del comune è andare in prediscesso. Significa che non ci si può indebitare. Quindi, se si roba una strada, se c'è un altro oggetto da fare, non lo dovremo fare, perché non abbiamo la possibilità di indebitarci, quindi chiedere in cui fare la cassa. E questi effetti ricativi, se ne vanno negli anni. L'ente non può procedere all'assunzione di personale a qualsiasi titolo, se ne ha un'intenzione, già ne assumeremo molti rispetto a quelli quali. La pensione qui contengono ulteriormente la spesa, mi dispiace, delle uffici dei quali aumenteranno. Già che hanno informato l'Anci, che probabilmente ci saremo a prendere. Questa volta ti informo anche per un'altra cosa che è successa recentemente, che secondo me è di una gravità inaudita e che ha visto poi molto il sindaco di Genova per i voti fatti dell'alluvione, perché non è possibile che si scarchi a massa i problemi di protezione civile tutti sui sindaci, non hanno liberato nessuna risorsa, cioè noi non abbiamo risorsa, ci prendiamo solo le responsabilità, perché il Signore magari sa rabbia, causa un cataclismo, un evento naturale, e bisogna innovare la caccia all'estrema, si fa, bisogna ricoprire il risultato positivo nell'anello intervole della cadena. Quindi contro la luce è stata fatta anche questa proposta nel gruppo di chiedere un tavolo, cioè anche su questa questione. L'Ende è tenuta a rideterminare l'impedalificazione dei centri di presenza in queste linee. Pertanto la previsione di bilancio annuale e plurientale, le successive parezioni, devono garantire il rispetto del pareggio di bilancio. Le previsioni di bilancio annuale e plurientale, 18, 19 e 20, comuni di stanza provato, garantiscono il rispetto del pareggio di bilancio. Ora, per l'anno di competenza, non sto più a legge, non sto più a legge, non sto più a legge. Tutto ciò che, diciamo, è previsto, però io dico che la competenza del 2018 è a zero, il fondo pubblico e naso, il fondo eleettorale che è entrato con la qualità, le spese correnti e tre partite finanziate. le spese correnti, il fondo del secondo pubblico e naso, la moda per il 2018 ha 5.463.344,30 euro. Quindi, l'equilibrio di bilancio, in senso, mi tengo solo l'ultima somma, è 1.500.000, dovrei le accendere, 1.500.000, 3.100.000 euro. Comunque, il dato è interessante, i principali equilibri di bilancio per rispettare le serie di programmazione e di gestione sono i fiori. Pareggio come un vestito di bilancio, per la previsione del totale del mercato deve essere uguale e per il libro di barri correnti e il libro di barri correnti. C'è tutto. Il bilancio di previsione del 2018 e 2020, le dati secondo i principi generali, applicate l'itturio del decreto del 1218 e del 1118, secondo le note di gennazio di finanza pubblica, presenta nell'esercizio del 2018 e nei seguenti risultati di dato. Fondo di rasservizio d'esercizio, utilizzo da parte dell'amministrazione, effettivamente, se vanno l'amministrazione del 2018, non ha da 6.122,5 mila. Fondo di rasservizio d'esercizio, titolo primo, il dato corretto di natura del tutt'aria competitiva, 4.613.162,75 mila. Fondo di rasservizio d'esercizio, titolo primo, spese correnti, il punto di cui al fondo potrebbero rasservizio d'esercizio, 5.463.948 mila. Fondo di rasservizio d'esercizio. Il totale commessivo dell'entrata è 30.016.612,03 mila. Il totale commessivo delle spese è 30.016.612,03 per la punta regge. Dissegui queste evidenze di criteri di formulazione delle prescrizioni relative al triennio, distintamente per la parte d'entrata e per la parte stessa. Per quanto riguarda le entrate e le prescrizioni relative al triennio del 2018-2020, sono state formolate, tenendo in considerazione, il testorico degli esercizi precedenti dove disponibili le basi informativi per la strada tributaria e sono stati considerabili gli effetti della legge di bilancio del 2018-2021, la numero 225-2017, che al conto del 37 prevede anche per i bilanciotti il conto degli aumenti di tributi locali, fatta eccezione per la parte. Quindi, continuo a bloccare la Stato centrale, quando hanno aumentato la casa, noi esercizi tra un po' e dare un po' in pace. Metteremo la finestra e manderemo in pace a dare questo esercizi che siamo a puntualizzare. Entrate in posta municipale propria a IMO, a fine di garantire la probabilità del gesto degli esercizi di bilancio interno a IMO, a seguito delle modifiche prodotte per la legge del 2018-2015, l'amministrazione comunale ha previsto per l'anno 2018 la somma di 1.800.000. Tributo comunale sui servizi indivisibili. L'Ente ha previsto nel filaggio 2018 per la rentrata a tributare la somma di 800.000 per il tributo sui servizi indivisibili da si istituito con il nome della 669-681 della legge 193. Attenzionale comunale IMO. L'Ente ha risposto la conferma dell'adiezionale comunale IMO per l'applicazione dell'anno 2018 con l'applicazione di risoluzione di prodotto per centri. Il gesto previsto è in euro 4.800.000. Tari dovuto da chiunque possiede o detenere qualsiasi titolo locale da resto aperto e qualsiasi uso di risoluzione di produttore di prodotto per centri. L'Ente ha previsto nel bilancio 2018 la somma di euro 1.555.856. con la diminuzione di euro 63.633 rispetto alle previsioni detentive della massa soprattutto istituita con i compi da 641-668 e da 147-23. La previsione complente è potuto pronunciare l'administrazione del liberale dell'amorigenza essente del Combo 666, se l'articolo 1 della legge 193-23. La tariffa è determinata sulla base dell'apertura integrale di costi di esercizio e servizi di prodotti. compresi quelli relativi alla fiscale di costi di esercizio e dei costi relativi a uniti speciali a cui spartimenti provvedono le proprie spese di produttore per centri di produttore. L'asso di occupazione di spazi da Repubblica e Tossa che sono progetti all'asso. L'imposta di soggiorno è eseguita quest'anno, che ci hanno dato la possibilità di portare la finestra aperta. Vi dico che il gettico complessivo che abbiamo, forse italianamente stimato, assolutamente via potenziale quello di questo e poi a 150 mila euro potenzialmente stanziali. questo è quello che speriamo. Proventi di recuperare la sede diputale recupero l'impio, gettico per la revisione 18 di questo dato, 800. Tarsutares, gettico 180. Tarsutares, gettico 30 mila, quindi puntiamo di recuperare, sempre per l'eserimento, 530 mila per tre, principali tasse. con atto dei giusti ammolari per 14, 15, 14 per l'impergo per 18, la somma di euro 163 miliardi, a metti di 73 miliardi, c'è la medicina di esterare a fondo credito, per eseguità, è stata esterata in 50 centri per le spese a identità del negativo 148, non la parola, non la parola, non la parola, non la parola, si deve andare al 590. La quota di arendi è la stessa per le euro 168, per le euro 159, e a una prima stessa per le euro 169. Precisamente, in traga, sono da ripartire con il 208 per la strada, prescranno i bisogni che ho 174, ci sono 735. Ci sono un esame uscite, potenziamento del terreno controllo 169, Grazie a tutti. 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 Spese per acquisto, bene, prestazioni e servizi, la protezione di spese per incontro dei vincoli imposti dal saldo di finanza pubblica, dal piano clientale, il potenimento delle spese per incontro dei vincoli imposti dal saldo di finanza pubblica del piano di finanza pubblica. Grazie a tutti. 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 migliore, 400 sono maggiori unità, quindi voglio capire come mai ci presento un'unità migliore prima. Sto parlando delle entrate adesso. Un'altra somma che mi parla agli occhi sono 100.000 euro di previsioni, sia di competenza che di cassa, per quanto riguarda gli imposti di cerchi per spese del personale, comando, distacco sull'involo, convenzioni e quant'altro. Io a me non risulta che abbiamo personale in convenzione o personale che presta servizio in altri comuni, per cui potremmo prevedere un'entrata di 100.000 euro. Come si spiega questa voce? L'anno scorso abbiamo mandato dei vigili che sono dietro a Nova Siric, quindi il distacco prevedeva dei pubblici, di nuovo a Siric, ci deve fare per passare, per passare, ma qual è il personale? L'ingegnere di Dio è proprio lo spazzate, per esempio. Quindi 100.000 euro sono delle migliori uniti, no? No, c'è un altro. Scusate, ma adesso a chiedere? Posso chiedere? L'ex collega tuo? Molest, la calcina è qua? Molest. Che questo Molest è... Un altro altro che è? E' con un dirame che era un vice urbano che già ha visto attraverso. No, vittorio. A me non ti prevede. 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 A me non ti prevede, a me non ti prevede. C'è stato un mese di tempo, questo non è un mese di tempo. Scusa Sinta, quello di là, ma vogliamo così, ma no. Ma vogliamo così, per dirà. Ma no, lei ce la doveva desegare. Perché non le chiesse all'ufficio. Perché stamattina sono andata, sono andata in mattina, e ho trovato il cappello che non so fino al giorno del prossimo. Scusa Sinta, se non riceva amministratore, non riceve... No, io te ne vedi, perché questa cappella che mi sta preparando i documenti mi fa sorridere. Perché a me mi fa sorridere. Io ci lavoro con i computer. Però è un documento. Allora, diciamo che la maggior parte delle volte che vedi come mantenì il conteggio, il conteggio non ci stava. Però penso che sia del mio dovere sindaco. Sindaco, mi vuole spiegare il bilancio, lo dobbiamo votare, che cosa dobbiamo fare? Perché non ha chiesto il intervento? Noi ne abbiamo mai chiesto il primo, insomma. Perché riesce a spiegare il consiglio. Il consiglio comunale, secondo il bilancio, non si può vedere. Il consiglio, il bilancio, lo possiamo noi, sindaco. Eh, sindaco, il bilancio, comunque, lo sopiavo, lo votiamo noi. Non lo votano, lo dice. Ok, quindi diciamo dove fa spiegare il libro. Ora, vabbè, tralasciamo queste voci. Io ho assistito anche ai consigli comunali. In cui non si può fare il libro. In cui ci si parte dobbiamo votare. Ok. Grazie. 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 Buongiorno a tutti. Vi volevo far notare che nella relazione del revisore contabile tra gli aggiuntamenti preliminari scrive il revisore contabile, essendo l'esercizio provvisorio, lei ha trasmesso al tesoriere dell'evento dei resili presunti alla data del primo gennaio 2018. Questo dato presunto per me, questa vita presunto, è un buonomano perché io come faccio a dare un voto su un dato presunto? Alla fine dell'anno del 31-12-2017 io non posso avere un dato presunto sui residui alti e i residui passivi. Perché come faccio io a sapere se tra i residui ci sono residui che dopo 5 anni vanno in presunzione e quindi non sono presungettivi? Domanda. Quindi la prima cosa, l'ha scritto il revisore dei corsi, da un mero sui dettagli. Poi ha detto quale ripropria? Come? Prima. Poi avanti, sapendo quello che risponde tu. Dalle comunicazioni ricevute, dice sempre il revisore dei conti, non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere. Quindi le faccio una domanda. Visto che a me, nella mia, nel mio sindacato istitato, ho chiesto ai vari uffici se vi erano debiti fuori bilancio da riconoscere. Bene, l'unico ufficio che mi ha risposto è stato l'unico ufficio del settore amministrativo e ha rilevato un debito di 14.176,45 ripenente la tendenza del 2012. Gli altri settori ancora non hanno risposto, evidentemente hanno così tanto lavoro per potersi vendere fuori tutti i debiti da riconoscere che hanno bisogno di tutto il termine giustamente. Io voglio sapere da lei, il sindaco, se questa somma di 14.176 euro che la dottoressa in la sala dice di essere un debito fuori bilancio, se è stata pagata questa somma? Allora, scusi, scusi, mi consiglio di... No, no, ma io sono disolto. E poi... Io lo salto bene, ma io non sono disolto. ером. Ma io lo salto bene. Non devo sapere... Scusa, tu moderni, presidente, ma devo raccomandare una cosa importante del bilancio. Non è che mettiamo le somme in limits. Poi purtroppo non ne so rispondi... Azzin, ma tu sei stato evasato... Tu ancora rispondi... Posso sapere se siete stato evasato? Non ancora rispondi. Sì, è stato in base, è stato in base. Sì, è stato in base. E poi è la domanda, la sua fisica. Ha venuto il mio palazzo? Voglio sapere se è stato in base questa cosa? Ma dove è venuto? No, dovevo dire la risposta, che in Italia dovevo dire la risposta sapermente. Voglio sapere se è stato in base. Ho fatto il mio palazzo, ho fatto il mio palazzo. No, 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 no. Facciamo un conto di questo, perché non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero. Cioè io non posso capire. Quindi devo dare un po' di bilancio. Cioè io non devo dare un po' di bilancio. Cioè io non devo dare un po' di bilancio. Ma io non devo dare un po' di bilancio, non lo devo dare. Lo posso capire o non lo posso capire? Ma tu devi fare le tue osservazioni politiche al mirale. Delle osservazioni politiche che ti faccio? Cosa non ti va bene? Sì, però voglio sapere se questa somma è stata in base. Cioè tu mi sei dicendo che hai chiesto dei debiti di politica. Nessuno ti ha risposto, o meglio, ti ha risposto. Perché volete essere risposto a questo motivo? Io non riesco a capire. No, ma non riesco a capire perché volete essere risposto a questo motivo. Ma chi è che ha fatto? Io non ho messo i termini. Io non ho messo i termini. Ma i termini politici, fino a quando è possibile riconoscerelo? Lo sappiamo. Io non ho messo in giù, non ho messo in giù. Non ho messo in giù, non ho messo in giù. No, ma i termini politici, però dovremmo pagare i termini politici per i termini politici. Scusa, ma devo riconoscere i termini politici. No, ma noi riconosciamo un termini politici e facciamo un riconoscimento negli altri. Quindi riconosciamo tutti e 3-1-1 saranno riconosciuti i termini politici. Se non c'è l'idea, mi dovete riconoscere l'attenzione. Il problema è che ci aiuterà il 3-2 a riconoscere. Dopodinque sarà il tuo rinanzo, perché non hanno essere rinanzo. Quindi non è stato rinanzo questa rinanzo? Cioè la dobbiamo riconoscere come rende un rinanzo? Sì, non è stato rinanzo. Ma è vero, se non è un rinanzo. Ma anche oggi. Va bene, vai avanti. Quindi la dobbiamo rinanzo? Ma cosa vuoi dire? Sì, ma questa cifra, questa cifra, se non è stata pagata al sindaco, dovrei trovare tra le uscite. Perché? Come perché? Come perché? Ma stai spettando. Ma perché l'abbiamo già riconosciuta tu? Sì, ma perché? Sì, ma perché? Sì, ma perché? No, io non l'ho riconosciuta. Quasi un rinanzo. In riferimento di cui all'oggetto risponde la nota elenco dei tuoi bilancio dei 15-30. In riferimento alla nota di cui all'oggetto si comunica quanto segue. Agli atti d'ufficio risulta una somma pari di 14.176,95, ritenendo la sentenza per l'esercimento data a sdebito di sinistro, a cui si procederà alla relativa istruttoria, perché nel base del dipendimento predispi dagli articoli 193 e 194,25, insieme all'esercimento delle equilibri di bilancio del 31.7 del 2018. Senza il primo dipendimento di un'esercimento delle lubri di bilancio del 2020. Si dice che ho una risposta. Si dice che ho una risposta. Quindi questa somma, se non l'ho riconosciuta, se non l'ho riconosciuta e non l'ho riconosciuta, se non l'ho riconosciuta, se non l'ho riconosciuta, la devo fare. Tra le uscine del blog. Te l'ho pagata, sì, non l'ho riconosciuta. ma non lo faccio, non lo faccio, ma non lo articolo lì su me, la diretto, predo la risposta della risposta, predo è istruttoria, 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 entro il terzo numero, faremo l'istruttore perché io consiglio, attenzione, io consiglio un contrato, potrebbero riconoscire, non potrebbero riconoscire quello del riconoscimento delle politiche. Cioè, ma non capirò che erano questo, già guardavo se non l'avete un altro. Perché è arrivata una rifida, una rifida al vagabello, filata il 24 maggio 2017, ma arriva la rifida, la sentenza esecutiva dal 2012, la rifida è arrivata dall'avvocato della compagnia assicurativa che, siccome la sentenza esecutiva prevedeva il risarcimento e la misura del 70% della compagnia assicurativa al 30% del comune, era esecutiva, ok, dal 2012, tanto è che la compagnia assicurativa ha risarciuto il danno e adesso lo so anche dell'attore che non è a chiedere, perché la sentenza del 2012, caosinnato, ed è arrivata la rifida da vendere l'anno scorso, il 24 maggio 2017. l'avete riconosciuto tu, tu personalmente, questo tempo? Sì, d'accordo. Allora, se io ho questo tempo... A me ne diceva che tu hai detto implicato, cioè tu sai che la resistenza di questo tempo di tutto l'anno? No, lo saputo adesso, me l'ho mandata adesso per la sconsolata. no, della sconsolata... E da anche che è grave, si dà a lui, non è grave. E' grave, si dà a lui... E' grave, si dà a lui? Guarda che il suo ciclo contagio è un tipo politico, perche è uno senso a là, non mi e non chiede agli uffici se rispondevi non stavate anche niente allora, scusa di sindaco ma di che devo rispondere? mi rispondo adesso intendo correre il bilancio ma di no ma prima comunicarlo dall'ufficio va distruita la pratica io in consiglio come anche non riconoscio ma si dico io come anche tu potresti anche sollevate l'eccezione che non va riconosciuto e noi prendevano l'ossi che conoscono e poi si evadono se per evasione tu intendi l'altra casa e allora scusate, se questa sentenza questa diffida è arrivata a maggio 2017 come mai lei non si è preoccupato di chiedere all'ufficio se esistevano debiti fuori bilancio visto che io l'ho fatto e scusate sindaco sono due anni che state qua possibile che lei non ha chiesto agli uffici se avete debiti fuori bilancio guardate che è una cosa normalissima ci erano tutti comuni ma guardate che da noi ti hai visto delle soffie si da qua allora lei non si è finita lei non si è finita lei non si è finita scusate se era una relazione non si è finita allora visto visto che avete previsto delle somme questa somma di 14.176 euro da qualcunale tra l'uscita e il bilancio adesso lei mi dice per favore potete stare con queste somme me lo dice per favore me le va a vedere dove sono queste somme cosa stai dicendo ma guarda non dici una cosa ne so ma se non decidi ancora la teoria ma stai scherzando lo dici sul serio e poi mi lasse solo il bel angelo in questo comune stai dicendo una cosa segreca adesso scusate lo devi provare se si è finita un termine che ancora non è stato riconosciuto e non c'erano se non c'erano ma lo senti questo ti dico nonostante queste viste le sorprese che escono teoricamente dalle uffici ti dico se stai attento alla violazione l'avresti sentito che se sono da dire te lo rivelio te lo rivelio si no lo ho assolutamente a questo proposito voglio ricordare scusa accantonamenti per passività potenziali accantonamenti per passività potenziali a questo proposito voglio ricordare che dopo l'approvazione del fondo sullo suo figlio altro 2017 avremmo a disposizione nel fondo rischio che ancora non l'abbiamo mai capolato avremmo a disposizione nel fondo rischio contenzioso una somma una somma paria del 60 mila di pocai serosata per il riconoscimento di evituali per evituali che ha risposto l'ufficio che ci sono quattro ci conosceremo che ci andiamo sempre sempre a noi conosciuti dopo di che no non è questo che fa che non 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 che 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 hanno sono chiaro c'è la ma chiaro come per che voi questo è il fuori di questa amministrazione perchè per questo che non ne ricisco male! Scusate, Scusate, manca manco figlia! No, non ci capisce non ci capisce, non ci capisce... ma se è ultimamente un costo e troppo è l'alluncio della giornalità ma non sono giorni la divisa è la data è da data il quattro è un abitore il quattro è un abitore e quindi dice che questo non è un debito colibilano Sì, non sto al riassino, mi faccio un aspetto, ma mi faccio il valore. Scusate, posso intervenire? Io sto fuori. Ma forse l'altro no. E' che tu ti ha fatto, e' il tuo attimo da lei. Scusate, ma non è la notte? Scusate, Sintaro, protesia. Qua non è da discutere più. Inizia il discorso. E dopo, ti devi iniziare. Io non rispondo tutto. Sì, non ho fatto tutto. Ma se non lo pensi di tempo, poteva andare all'ufficio. E' una cosa importantissima. Ma perché? Tu dici maggi, la dottoressa la sanno. E poi ti dici come la dottoressa la sanno? Sì, la dottoressa la sanno. Sì, la dottoressa la sanno. Io voglio dire atti formati. Ma non è che sono atti formati, ci sono atti formati. Sì, la dottoressa la sanno. Sì, la dottoressa la sanno. Quanto tempo mi riconosce? Eh? Non dovrebbe riconoscere il 2021 l'ultimo dell'anno scorso. E me lo dici, signor Presidente. La sanno. 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 Quei le faccio vedere per le disseminazioni. Ma. Vi volevi vedere cosa hai fatto? Le vuole vedere? Perché io guardo la sanno. il sindaco mi ha detto che questo non è il debito fuori in bilancio eh no Allora, 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 ok, evidenti, tra virgolette, virgolette, virgolette. Alla mia domanda, se il riscontro alla nota pervenuta in data 15.3 dal settore amministrativo, allora, il riscontro alla nota pervenuta in data 15.3 dal settore amministrativo, con la quale, la sottoscritta, richiedeva ai vari uffici se vi erano repiti fuori il bilancio, i responsabili del settore amministrativo, dottorezza Carmina Lasana, mi risponde con nota protocollata da 4.892, 4.892, da 4.20 marzo 2018, che agli atti del suo ufficio risulta una somma pari a 14.176,45 176,45 176,45 il sindaco mi ha detto che... No, non mettere qua in bocca, ma non è la sindaco. Non lo state pagate. Verbalizza quello che voi verbalizzate, in basso del tempo. Ma non è detto che non sono state pagate. No, ha detto che non conosce neanche questo debito fuori il bilancio. Non lo conosce. 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 Lo stai facendo ragazzi. Ho lasciato aperto qui, però... Chiudiamo. Previa valutazione, se non ci sono piaciuto bene. Ma lo valuteremo molto bene. Perché il consiglio è il sindaco, tu hai vede un po' comune. Allora possiamo dire quello che sta dicendo? Ma non ci siamo mettere quello che ci avete risposto. Scusa, può verbalizzare quello che sta dicendo il sindaco? Lo stava dicendo il sindaco? Eh no, stava dicendo il sindaco. Per il sindaco? Prego, sindaco. Può verbalizzare quello che sta dicendo? No, ma devo parlare quello su. D'accordo. Invegliete l'ascendente. Ecco. Chiudo, ripeto, ripeto, ripeto. Ok. Alla mia domanda. Se il risconto alla nota pervenuta in Italia 15-3-2018, con la quale la sottoscritta richiedeva i vari uffici se vi erano detti di buon bilancio, il responsabile del settore... Scusa, ma non parla di profondo? Scusa, ma non parla di profondo? Questa è la piccoletta della riporto internet. La riporto internet. La riporto internet. Alla mia domanda. Se il risconto alla nota pervenuta in Italia 15-3-2018, con la quale la sottoscritta richiedeva ai vari uffici se vi erano detti di buon bilancio, il responsabile del settore amministrativo per essere campionato alla sala, mi risponde, non ho davvero scordato, ma non ho davvero scordato, ma non ho davvero scordato in Italia 23-2018, che gli altri uffici risultano una somma pari tra 4800 e 176,45, riveniente da sempre. Scusa, riporto. Sì. Posso continuare? Voi che faccio? Continuo? Eh, se vi permettete. No, io scrivo quello che mi dici. Alla mia richiesta, al sindaco. No, parliamo. Alla mia richiesta. Al sindaco. Se questa cifra è stata pagata. No, è bassa. È bassa? È bassa pagata nella sottoscritta. No, è bassa pagata. No, è bassa pagata. E bassa pagata, mettiamola in sottoscritta. E bassa pagata. No, è bassa pagata. No, è bassa pagata. No, è bassa pagata. No, è bassa pagata. Non devo mettere il movimento. No, è bassa pagata. Scusa, è bassa pagata. No, è bassa pagata. No, è bassa pagata. Ognuno di noi ha la facoltà di far riportare a verbale l'intervento di qualsiasi consigliere. Presidente, ho semplicemente detto che ho il portino che la consigliera con cura della la verbalizzazione di quello che sta dichiarando, dopodiché eventualmente si continua a verbalizzazione di qualsiasi consigliere. No, un attimo, siccome io stavo in contatto, consigliera l'ospedale, non è proprio attenta oggi e il sindaco mi ha vietato di dire quello che ha detto, preferisco che lo dice anche il sindaco. Scusami, non si chiede uno spazio, si chiede che si mette a venire, si mette a venire per un ritmo di qualsiasi consigliere, perché sennò così non ci sono conosci. Ha un giù di diritto di mettere a verbale. Posso chiedere, Presidente, che lei faccia applicare il regolamento che sta portando dire per il consigliere Nello, per mettere a verbale quello che sta dichiarando? Posso chiedere, giù della dichiarazione del consigliere Nello, si decide se per partitare altre dichiarazioni. Grazie. Eh, ma lo stas facendoci, spero che questa parte della discussione sia si è alcavata lì. Eh? Eh? Mi ha riferito? Mi ha riferito? No, no, non ha riferito niente. Il sindaco mi ha vietato di dire determinati costruzzi. Voglio che veniva il sindaco. Così è avuto di riferire. Allora, scrive che il sindaco mi ha vietato di dire a qualsiasi consigliere. questo è il caso che finisce ciò sui due. Siamo a loro. Eh? Scusate. Scusate, scusate. Mi ha detto, ma diciamo qui. Il consigliere Nello ha chiesto di mettere per cale una parte dell'intervento del sindaco. Poi me la parmi, non ti dici. Ma non ti dici. Ma non ti dici. Ma non ti dici. Ma non ti dici. Allora, facciamo una cosa. Si, non vorrei dire al micro. No, queste. Allora, tu non vuoi costringere nessuno a dire al micro. Non ti dici. Non ti dici, no. No, lo potrei dire al micro. Non ti diciamo, no. Allora, cusate. Allora, consigliamo. Allora consigliamo. Cusate. Segretario, consigliamo. Alla mia risposta, alla mia domanda. Secondo, se questa cittura è stata evassa, barca pagata, il sindaco non riceve risposte in merito a questo. dal sindaco non ricevo risposte in mezzo e quindi io non posso sapere se questo debito è stato pagato oppure lo devo trovare o se lo trovo nel bilancio di previsione sotto la voce schese perchè se poi è stato pagato questo debito se vuole risulta da via se vuole risulta da via allora io ho chiesto al sindaco che se queste cifre non sono state pagate lo devo trovare tra le voce di uscite del bilancio e io sinceramente le voce di uscite non le ho provate da nessuna parte questo è il mio intervento se il sindaco mi vuole delucidare perchè non è corretto dire che abbiamo messo 60.000 euro per debiti eventuali quindi prevedete che ci possano essere debiti fuori il bilancio e quindi questa cifra doveva essere scritta in bilancio nella precisamente con l'importo di 14.176,45 visto che nessun ufficio ha detto che esistono debiti fuori il bilancio come dice il sindaco quindi se nessun ufficio ha detto che ci sono debiti fuori il bilancio provengono da sentenze ok? punto, finito il mio intervento andiamo avanti adesso cortesemente visto che il sindaco ha perso la sua redazione anche lì vado a leggere la mia redazione posso rispondere? me lo deve consigliere finisco e poi se credo se facciamo confondere e continuiamo allora al fine di buona chiarezza sulle ultime vicende succedute si negli ultimi mesi è bene sottolineare che alcuni avvenimenti esclusivo carattere amministrativo contabile sono stati erogliamente interpretati come costruzione politica premesso che il responsabile dell'area contabile durante l'esercizio finanziario deve assicurare l'equilibrio di fareggiore finanziario durante tutto l'anno premesso altresì che durante le verifiche che sono state effettuate è stata rilevata una situazione che richiama gli articoli 193 e 194 del 2 che al fine di mantenere l'equilibrio del bilancio la normativa stessa lo prevede con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente e comunque almeno una volta all'anno deve essere riconosciuto anche perché se si rileva un debito fuori bilancio lo stesso deve essere immediatamente riconosciuto poiché aspettare fino al termine dell'ultimo imposto dal 2 potrebbe essere l'annuncio per lente e di conseguenza per i cittadini che si vuole rappresentare premesso che nonostante la scarsa documentazione acquisita in riferimento a tutte le richieste formulate non avendo gli organi indigenziali che evalso le mie richieste e verso che vi sono debiti fuori bilancio l'unico ufficio che risponde e che mi dice che vi sono debiti fuori bilancio per un importo di 14.176,45 è il responsabile del settore autistansione tale debito è dovuto in forze di una sentenza del Tribunale di Matera la numero 208 del 2012 come mai questa sentenza è richiesta dell'avvocato che risale al maggio 2017 e rimasta ferma? come mai il responsabile dell'area preposta non ha venduto a fare un altro? lei intupeva riconoscere immediatamente i debiti fuori bilancio ed infatti l'apporte dei conti di merito recita le transazioni in considerazione della loro natura negoziale presupporto una decisione di intervenire ad un accordo con la controparte con la conseguenza che lei ha la possibilità di prevedere non solo il sorgere delle obbligazioni ma anche i modi e i tempi dell'avventimento nei discende dell'amministrazione in dati casi e nelle condizioni di attivare le normali procedure contabili che si utilizza quindi il sanziamento, l'invento, l'ipidazione e il pagamento previsti dall'articolo 191 del 2 e di apportare a resti l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi comandativi per quanto sovrappremesso è chiaro che riconoscere un debito fuori bilancio causato da questa amministrazione e un segno di trasparenza amministrativa e contabile esso deve essere riconosciuto nella sua legittimità dal Consiglio Comunale così come prescrive l'articolo 194 del 2 che disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio ossia delle obbligazioni formate se secondo l'Unito non conforme ai principi giù scontabili il Ministero dell'Interno con circolare 20 settembre del 93 ha definito il debito fuori bilancio con un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sul lente assuma in violazione delle norme giù scontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali la competenza consigliare al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio permane anche nel caso in cui il bilancio siano stati previsti stanzamenti generici o specifici accandonati per sopperire a cari fatti specie dei debitori in osservanza del principio ordinamentale secondo cui tutti i procedimenti devono concludersi con un provvedimento espresso i procedimenti da lungo tempo prendenti non possono ulteriormente rimanere in posizione quiescente specie nel caso in cui nel corso del tempo possa essere poi sanzionato con gravato per lente interessi moratori quindi per ritardato pagamento indemnità esercitore, spese, dettagli eccetera di cui potrebbero essere ritenuti responsabili sia i dirigenti che gli amministratori la vicenda è un'imministrativa contabile certamente non può essere causa di dimostranze di carattere politico la posizione legittimamente assumita dalla consigliera Merlo con l'ora intenziale al sindaco e al responsabile del settore contabile del 9.1 2018 protocollo 432 altro non è che un'annunciazione di un principio di trasparenza e correttezza dall'organo politico quindi l'amministrazione e gli organi dirigenziati dell'ente inoltre all'epoca del mio assessorato al minaccio venivo a conoscenza che vi era un dedito per il servizio di postalizzazione relativi all'anno 2014-2016 pari a circa 55.000 euro alla data moderna non vi è dato sapere e conosce quali siano le posizioni prese per tale debito la chiarezza nonché la trasparenza amministrativa e contabile è per ora quella di riconoscere il debito successivamente si può procedere all'individuazione se il caso lo richiede ad azioni di recupero nel controllo di eventuale responsabile per il ramo dell'organo di controllo dei posti l'erronea percezione di una realtà di diritto o il fatto che in base ad altri obiettivi risulta che non poteva essere così intesa ad esempio quando la scelta non tiene conto di istituzione di indirizzi, di prassi e pronunci esistenti può essere frutto di colpa grave anche da parte di chi è amministrato questa non è una posizione politica non è terrorismo psicologico come si può credere ma è una forma di collaborazione attiva costruttiva e democratica di estrema trasparenza e cobertezza amministrativa che l'amministrazione tutta è tenuta a manifestare in seguito in ogni sede istituzionale l'accesso dei consiglieri comunali agli atti amministrativi dell'ente locale disciplinato dall'articolo 43,2 del testo unico degli enti locali numero 267 del Prima prevede in capo agli stessi il diritto di ottenere dall'ufficio tutte le notizie e le informazioni loro possesse utili al rispettamento del loro mandato si prendono tuttavia le distanze da questo modo anomalo di procedere da parte degli organi di poste con l'austizio che in futuro tali fenomeni non abbiano più a verificarsi per tale ragione riteniamo di poter esprimere quanto contrario all'attuazione del bilancio in posto ad ordine e ragione tale assunto è in ordine sospragato dalla circostanza che noi in qualità di consiglieri abbiamo il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio sempre lo prevede sempre l'articolo 43,2 ed abbiamo il diritto di ottenere dagli uffici tutte le informazioni in loro possesso utili al rispettamento del nostro mandato chiediamo infine al segretario comunale che questo nostro intervento venga legato alla delibera del consiglio comunale odierna e trasmessa in uno alla volta dei conti di Basilicato questo comunicato è firmato dal gruppo Sant'Aro Libero e dal gruppo Sant'Aro Libero Sant'Aro Libero e dal gruppo Sant'Aro Libero il sottoscritto di cui l'altro quando si sbaglia il nostro quando si sbaglia il nostro quando si sbaglia il nostro e continua a fare l'affermazione di una scritta di la professione poi glielo va a dire la professione e continua a dire che mi ha scritto il nostro e non manda dire come si permette di nominare le persone ma come si permette ci sono altri interventi siamo a fare lì ma stai in giro allora questa lettera è stata assoluta sotto il cerchio già non si viene meno dal gruppo Sant'Aro Libero dal gruppo Sant'Aro Libero e dal gruppo Sant'Aro Libero e dal gruppo Sant'Aro Libero ci sono altri interventi ci sono altri interventi comunque si concludo concludo rapidissimamente e lo dico adesso ho stretto a fare dichiarazione prendo l'atto stasera che è un ufficio che ci sono quando avvicinare che riguarda una sentenza del 2012 che abbiamo letto del 2012 quindi della vecchia amministrazione e che ne dico a me che lo schieno che ho detto nel 2012 qua non c'è prendo l'atto di questa segnalazione che è avvenuta dico semplicemente che per me è un dedito fuori pirante dovresti perdere ma un dedito fuori pirante per essere prima riconosciuto c'è un termine di valutare per eventualmente riconoscere ma sempre pre-destruttoria e sempre se questo Consiglio Comunale non il Sitaco o il Consigliere Neuro o gli altri consiglieri sicuramente se questo consesso consigliare riterrà di dover riconoscere pre-destruttoria di Valisto in questo tempo non è il riconoscere 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 ma non è che io voglio pagare prima ancora di non di riconoscere ma di sapermi addirittura la presa stessa quindi con loro qui grazie e passiamo la presa se pure il sito dove posso dare tutte le esigenze pagate lato sconso nell'anno 2017 pensate che sono state che conosciute come le riconoscere il riconoscere il riconoscere o anche quelle ma io ancora non so neanche se questo sia cosa direi io non so neanche se questo sia un vero il riconoscere non so se vada riconosciuto tu hai sollevato la questione stasera hai detto un'altra cosa importantissima che sapevi i debiti di fuori bilancio quando facevi l'assessore al bilancio tu hai dichiarato stasera che sapevi perfettamente i debiti di fuori bilancio afferenti alla posta ma non è un servizio di posta ma comunque non sapevi 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 che quando eri assistito al bilancio sapevi tutte le esistenze di debiti di fuori bilancio poi ci chiarirà perché non lo hai mai ricordato non lo hai mai ricordato non lo hai mai ricordato io non so solo che questo debito non lo hai mai ricordato io non so solo che questo debito io non sapevo del bilancio che non lo ha mai ricordato ma dopo averlo riconosciuto quindi la tua domanda è tutto perché questo debito non fosse stato non fosse stato vero o addirittura se questo debito fosse stato evaso o meno cioè a me non risulta assolutamente idonea vuol dire non risulta causante al caso di specie anche perché se ho letto bene ho scritto bene le date cioè questa affermazione dell'ufficio sarebbe arrivata finalmente dopo il deposito dei piatti di bilancio quindi come facevamo e come facevamo noi di grazia vigni a riconoscere a portare il bilancio un debito con il bilancio che non è tale ed è che è emesso per avuto un po' il deposito del bilancio stesso cioè l'ottimistagravo che noi ancora le magie le magie ancora non siamo in grado di fare quindi ti stai dicendo addirittura non solo che ho letto l'ottimistagravo ma che tu stessa l'ottimistagravo dopo il deposito degli atti riguardanti il bilancio quindi meno di 15 meno di 10 quando il bilancio e il bilancio è già stato per risposta quindi ditta risolato allora le monete come ci sa che la sentenza è è è è è è il caso non è non è ma non è può andare sul bilancio ma non posso capire cosa cosa scusami consiglieri assessore ruce qua stiamo discutendo di un punto del bilancio non si è mai capito dell'importanza Scusate, 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 è molto fortunato. Disc partner, scusate, 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 scusate. C'è casino e il sottotit秒. Aspetta, scusate, scusate, scusate. non ci augi per forza la sospensione del corte scusatevi si pensi la pavota della sospensione del corte la sospensione del corte non siamo d'accordo a sostendere il corte non siamo d'accordo a sostendere il corte io mi presenti voglio mettere l'abuso con me ma noi non siamo d'accordo a sospendere il presidente a dar fine a facoltà di prendere la parola soldi e passione di intervenire in qualsiasi momento della discusso ha pure a facoltà di sospendere di sciogliere la seduta facendo il processo del pari e la trasmettere al trepetto e così lui l'amministrava sospensione 10 minuti non ci sono i mani per la sospensione io sto spesso perché non fosse un po' tu mi lavori così perché vi parlate sopra e qui guardate sopra che non ci sono i mani però la presenza è sospesa è sospesa è sospesa non ti perdono per me non te lo permettiamo ma ci sono una votazione che dimostrano tutta le regole sono andate a base le regole sono andate a base ma noi lo stiamo a tutti ma noi lo stiamo a tutti ma noi lo stiamo a tutti ma noi lo fanno allora se vuoi da prima gli avventamenti li chiamiamo un attimo sì c'erano un po' di scantare a fondo allora sì c'erano a fondo c'erano invece allora sì l'avventamento il protocollo si passa la votazione e l'avventamento e l'avventamento e l'avventamento per il quale esistono per il quale esistono le regole devoluzioni passiamo alla votazione grazie 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 tra me la figura dell'assistente sociale. Paurevoli? 6. Saluti? 0. Contrari? 7. I consiglieri? I consiglieri? De Marco? Lo di Marco? Esisto? I consiglieri? Andare? Esisto? Ok. Nell'aventura non è stata approvata, è respiro. Grazie. 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 Passiamo all'avventamento del gruppo Scanzano Ipera, assoluto il protocollo. Grazie. Parolevoli sei, assoluti zero, coltari sette, nessuno dei condizzi di diritto. Grazie. 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 dove sono le risorse ormai previste e dove sono le somme in bilancio, di quale capito si stanno occupando le somme per questo progetto? Non sappiamo se ci viene finanziato, nel momento in cui eventualmente sarà finanziato, perché questa istituzione della piste, il NIPA al riso pubblico del NIPA ci dice di costituirla è in 35 giorni dalla gravatoria, quindi noi lo facciamo in maniera preventiva, però non sappiamo se il progetto o la progettazione, cioè la proposta progettuale che abbiamo presentato era finanziata. Se dovesse essere finanziata, eventualmente prevederemo delle varie azioni di bilancio, quello che sarà da passo. Scusami, se voi state parlando di progettazione, no? Eh. Guardate sui progettazioni, quindi avete già un progetto di finanziamento? Sì, allora con questa progettuale che abbiamo calentato. Allora, il NIPA chiedeva ai singoli comuni, se avessero partecipato come singolo comune o nei comuni comprensionati, come pensavamo che poter reggere pulibile con i territori culturali. Ogni comune ha proposto la propria 5 candidatura che poi viene, è stata redata dall'ufficio vecchio delle progettazioni di Bernanze, che ha fatto l'unica forza progettuale per i comuni con i porti nel progetto. Ho esattito. Eh. Però è vero che comunque Camolina riceverà i porti, ma voi per partecipare al progetto comunque dovrebbero vedere le somme. No, perché... No, perché... No, perché a momento a parico delle lezze non sono previste delle somme, al domenico. Quindi le ha caricati tutte per nata, queste somme. Eh, a parte che con la sostituzione delle RTS, il Comune Capofina, se leggi bene la contenzione, ha dei rioni degli elettrimenti a carico. Anche l'eventuale, se dovreste essere finanziato, il fatto che verrà fatto per l'affinamento della progettazione, provvederà a tutte le capofili al fatto. E quindi il progetto che cosa prevede? Sì. Qual è il progetto per i nostri siti? Eh... 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 Sì. Allora... Eh... In maniera genita, la proposta progettuale, prevede il sistema e la nascita di un sistema culturato, non ci depitto, perché è abbastanza lungo. Eh... La proposta progettuale è avere il sostegno della nascita di un sistema culturale integrato, facendo le nostre due caratteristiche identitarie fondanti. La figura di Tavora e la cittadinanza temporanea, metodo di stimolo e stimolo delle comunità locali per la trasformazione dei cittadini abitati in abitanti culturali in grado di trasformare i turisti in cittadini temporanei. Concretamente, voi, la proposta progettuale prevede degli interventi. Sì. 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 In maniera generata. Allora, le due comuni... Cioè, abbiamo individuato, le condizioni culturali, il capo di interventi della diversa scena. Eh... Il primo intervento, abbiamo individuato, di favorire la conoscenza e il riconoscimento da parte del mercato turistico e delle comunità locali e il valore della specificità dell'offerta turistica e culturale del territorio. Sarà riuscire a riuscire a posire i certificati ambientali del territorio, il marchio varia, realizzato a favorire la creazione delle filiere turistiche. Obiettivo 2 Sarà la restituzione della memoria di eventi organizzati negli anni della mani e fece a contattività di campanile di scape sui siti minori, rifusionalizzazione dei siti archeologici minori, costruzione di reti, integrazione tra i nomi della cultura e delle tradizioni adattuali e del territorio, attivazione di scape tra comunità dei nomi e comunità culturale nazionale e internazionale. L'obiettivo C è la costruzione degli eventi per la valorizzazione del patrimonio, la realizzazione di un sistema informativo praticamente. L'obiettivo D è l'ultimo, però poi, voglio dire, nello specifico ci sono altri interventi, per esempio, per la realizzazione. La costruzione è un modello di nuove, trasmissione basato su processi partecipativi del tipo Coturato, che è una strategia di marchi, che è caratterizzata da informare e comunicare il territorio anche nel quale il progetto dovrebbe essere fidanzato, attraverso le iniziative, le azioni, anche in maniera virtuale. Grazie. Prego. Prego, consigliere. Se volevo solo chiedere, l'importo è di 300 mila euro per l'antica? Come? Per l'antica del 300 mila euro per un progetto? Sì, per un unico progetto, 300 mila euro. No, è la progettazione unica. Dato che abbiamo partecipato, insieme con il proprio l'antica, quello che potremmo fare, il Comune Campina ha disperato il corrente di finanziamento e la progettazione sarà unico unica perché la proposta progettuale è stata presentata insieme, facendo rete tra i territori, con il suo lavoro di voto. Non ci sono i voti. E' domenica. Scusa, non ci sono i voti. E' domenica. E' domenica. A domenica. E' domenica. E' domenica. E' domenica. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.